Colleghi, gentilmente se ci accomodiamo così possiamo riprendere i lavori di questa seconda sessione. Bene, possiamo riprendere i lavori di questa seconda sessione e ci scusiamo per l'assenza giustificata sicuramente del collega Franco Vallicella che per impegni istituzionali ha sostituito la nostra Presidente in un impegno a Roma, in un incontro. E modereremo, cercheremo di sostituirlo in maniera egregia io con il collega Cosimo Ciccia. Con il massimo dello sforzo. Sicuramente. E riprendiamo i lavori in questo pomeriggio dopo gli stimoli che noi abbiamo avuto con le riflessioni degli illustri professori e relatori in generale che hanno stimolato molto la nostra platea, la nostra comunità professionale. Di questi stimoli anche durante il pranzo abbiamo raccolto anche dei feedback anche positivi sulla riflessione e lo stimolo che c'è stato nel confronto del cambiamento, se necessario o come necessario, in quale direzione dobbiamo in qualche modo muoverci. Se è d'accordo il collega Cosimo io apro con un altro spunto di riflessione che sicuramente susciterà in noi delle riflessioni e che avrà modo anche di poter stimolare il dibattito nella fase conclusiva di questa sessione con il Professor Federico Lega. Il Professor Federico Lega che conosciamo tutti è professore ordinario dell'Università di Milano, la Bocconi, è già conosciuto perché è stato qui altre volte con noi e ci stimolerà con una relazione legata alla considerazione sul top management definita da lui stesso come relazione il management delle professioni sanitarie 3.0. Quindi iniziamo con il Professor Lega e a tra poco poi per degli spunti di riflessione. Certo, ce la facciamo. Va bene, buon pomeriggio a tutti quanti. Io intanto ringrazio per l'invito a essere qua nuovamente con voi e il privilegio soprattutto di parlare a una classe dirigente che credo in questi anni, come direi più di tante altre, si sia sobbarcato il peso e la fatica di una crisi e di una situazione di difficoltà dentro le aziende che pochi da fuori riescono a percepire veramente ma che chi è sul campo sa perfettamente cosa ha voluto dire in questi anni. Peraltro poi professionalmente sono cresciuto con anche molti di voi con cui ho avuto modo di confrontarmi nel tempo, di imparare prima di tutto e anche di mettere in qualche maniera in discussione i quadri organizzativi. Quindi sono doppiamente contento di essere qua e come sapete, come dire, sostengo sempre sostenuto il tema della centralità di una costruzione di una classe dirigente nel mondo delle professioni forte perché senza questo saremo in difficoltà nel portare avanti il nostro sistema sanitario. Per la sostenibilità, per il fatto che parliamo di patient journey, abbiamo cominciato a guardare come dire l'integrazione orizzontale, case management con occhi diversi, abbiamo strumenti per farle, quindi ancora più di prima come dire c'è questa centralità. E poi ci sono le nuove tecnologie, digital therapeutics, la digitalization che permetteranno di fare cose che non abbiamo neanche immaginato fino a prima in coproduzione dei pazienti, self management delle terapie, della cura e chiaramente la classe delle professioni infermieristiche è al centro di questa rivoluzione perché sarà chiamata per molti versi a guidare anche i pazienti o i cittadini nell'uso di queste innovazioni tecnologiche. Come sapete io mi occupo di organizzazione, molti abbiamo avuto modo di discutere in aula e nell'ultimo periodo ho cominciato a riflettere un po' sugli assetti organizzativi delle nostre aziende sanitarie alla luce del fatto che le aziende che abbiamo oggi di fronte sono tutt'altra cosa rispetto a quella che avevamo di fronte 10 o 15 anni fa. Credo che quasi tutti viviate oggi dentro un'azienda sanitaria che nulla ha che spartire con quella dell'inizio degli anni 2000 per dimensioni, per complessità, per pressioni istituzionali, per potenzialità dal punto di vista degli sviluppi interni. Per tante ragioni voglio dire oggi siamo di fronte a una nuova normalità, qualcuno la definisce così, il mondo della sanità in generale in tutti i paesi, ma l'Italia non è avulsa da questo, è di fronte a questa nuova normalità in cui l'abbiamo interpretata di fronte anche alle difficoltà del sistema tra le altre cose cercando una scala dimensionale più grande delle aziende, poi abbiamo aggiunto una maggiore trasparenza, abbiamo aggiunto la misurazione di fenomeni che non misuravamo 15 anni fa e quindi gli esiti o gli atto anche come volete chiamare, poi abbiamo tutto il tema della qualità dell'assistenza nel mondo delle professioni, abbiamo cambiato le carte con cui le aziende giocano, la partita del proprio assolvimento della missione. E allora il ragionamento che ho cominciato a fare da qualche tempo è se è cambiata la scala dimensionale, la complessità con cui si confrontano le aziende è altrettanto vero che generalmente l'organizzazione ne consegue, ne consegue in quanto le scelte organizzative sono frutto di prima di tutto una riflessione strategica, quindi dove voglio portare quell'azienda, quali sono gli obiettivi prioritari, quali sono le cose più importanti che voglio conseguire, quindi come metto a sistema l'organizzazione per raggiungere queste priorità strategiche. E contemporaneamente, ovviamente, abbiamo tuttora dei quadri istituzionali che invece sono per molti versi troppo vecchi, troppo ancorati, è una storia di 20, 25, 30 anni fa in molti casi e dentro questo percorso sono avvenuti dei cambiamenti, il vostro è uno dei quelli più eclatanti, come dire, le dirigenze delle professioni, la strutturazione progressiva è stata chiaramente una svolta epocale, ma è una svolta epocale che è iniziata 20 anni fa con dei quadri di riferimento di 20 anni fa e che si è portata avanti i 20 anni e la mia domanda ha cominciato a porsi, ma quello che 20 anni fa avevamo immaginato essere un punto, un traguardo, se è ancora il traguardo che ci serve oppure se ci serve guardare le cose, traguardare il futuro in maniera diversa, perché ciascuno di voi dirigendo ha la responsabilità, come dire, di produrre anche una visione di trasformazione e di innovazione della propria organizzazione e prima di tutto l'ordine nel complesso, ovviamente questa classe dirigente dovrà avere una sua visione per sedersi al tavolo ragionevolmente con le altre parti del sistema e dire dove ci immaginiamo a 10 anni da oggi quando guardiamo agli assetti di governance delle aziende sanitarie e alle sue strutture interne. E la riporto su uno schema molto semplice, prima di arrivare poi alla parte diciamo più di contenuto. Se la riporto alla materia di cui mi occupo principalmente quindi questo tema dell'organizzazione, noi sappiamo, la storia ci ha insegnato 40 anni di storia organizzativa, anzi un secolo, negli ultimi 40 anni si è consolidato un modo di guardare con delle evidenze, quindi con anche della sostanza basata sulla ricerca che ci racconta come le organizzazioni al crescere delle due dimensioni che ne caratterizzano un po' la complessità gestionale, quindi da un lato la complessità dell'organizzazione, quello che trovate sulla sinistra di questo grafico, la dimensione dell'azienda, la quantità di linee di prodotto, di servizi che deve offrire, la sua eterogeneità interna, il fatto di avere o non avere una componente fortemente professionale nella forza di lavoro piuttosto che non averla, cioè una serie di elementi che ci fanno dire, ma lo sapete meglio di me tutti quanti, che vuol dire che le aziende sanitarie erano di partenza molto complesse, se non le più complesse, tra le organizzazioni da gestire, organizzare e guidare, lo sono diventate ancora di più quando guardiamo le aziende che avete oggi di fronte con 10.000 dipendenti, 8.000, 7.000 e con territori sempre più vasti e con sfide sempre più importanti per quanto riguarda le performance da raggiungere, i risultati, i traguardi, eccetera, eccetera. Quindi è cresciuta moltissimo la complessità da un lato interno, al tempo stesso è cresciuta anche la complessità dell'altra variabile che è quella dell'ambiente perché 20 anni fa misuravamo un po' meno, era un po' meno importante raggiungere determinati risultati, c'era un po' meno trasparenza, insomma in qualche misura le aziende erano un po' più passatemente protette dall'ambiente istituzionale, oggi lo sono molto meno e soprattutto dal mio osservatorio è cambiata una cosa molto importante, 20 anni fa il tempo era una variabile dipendente, le aziende decidevano quando e come fare le cose e farla sei mesi dopo non era un problema, oggi il tempo è una variabile invece molto più indipendente, gestita dal livello istituzionale politico e fare le cose in sei mesi o farla in tre mesi può fare la differenza, le direzioni generali questa cosa l'hanno avvertita chiaramente perché non c'è mai più il tempo di attendere e quindi se questo ha prodotto un ambiente che talvolta tendo a definire un po' più ostile, un po' più complicato. Allora questo grafico ci dice che l'organizzazione al crescere della complessità tra queste due variabili cerca progressivamente delle soluzioni che l'aiutino a fronteggiare, quindi a presidiare queste complessità. Si parte ovviamente da situazioni in cui sostanzialmente l'organizzazione quando è piccola in un ambiente piuttosto semplice può essere guidata dal singolo leader, dal singolo capo, dal singolo direttore che anche in maniera un po' improvvisata, ha intuito, governa l'organizzazione e quando questo non è più sufficiente perché la complessità da governare diventa troppo alta cosa fa il leader? Tendenzialmente comincia a delegare un po' di funzioni e quindi si passa dall'organizzazione cosiddetta semplice ai modelli funzionali per cui io ho il direttore che poi si avvale di un direttore della produzione, di un direttore del marketing, di un direttore delle vendite, cioè tendo in qualche maniera a strutturare per funzioni le responsabilità perché non sono più in grado di governare tutto quello che sostanzialmente ricade sotto la mia sfera direzionale. Però succede anche che a un certo punto questo problema sostanzialmente dell'organizzazione diventa ancora più complesso perché la struttura funzionale, la struttura organizzata per compiti o per responsabilità che di fatto costituiscono dei saperi specialistici, quindi chissà di produzione, chissà di vendite, chissà di amministrazione, chissà di ricerca e sviluppo che poi è spesso quella che troviamo ancora oggi dentro le nostre strutture amministrative nelle aziende sanitarie, acquisti, la parte magari provvitorato, la parte affari generali. Questa struttura funzionale ha il vantaggio che mi aiuta a presidiare singoli ambiti ma al crescere della complessità aziendale produce e al crescere della quantità di volume di attività che devono essere svolte e quindi in qualche maniera anche della pressione della difficoltà con cui l'organizzazione si misura perché le risorse non sono mai sufficienti, il tempo non è mai sufficiente, tutti si corre per fare le cose. Ognuna di queste strutture funzionali tende in qualche maniera a isolarsi e a proteggere il proprio sottoambiente e si generano i classici problemi di coordinamento e di integrazione. Quindi ho risolto un problema che è quello di avere uno specialista di quell'ambito e ne ho creato un altro più forte che è il fatto che quello specialista tendano ad integrarsi con il vicino accanto. Soprattutto se poi sono in gioco le risorse bisogna competere per le risorse scasse organizzative e quindi soldi per l'innovazione, soldi per il personale, soldi per le dotazioni. Insomma sono tutti un portafoglio unico e io devo competere con i miei colleghi delle altre strutture per ottenerne qualcosa di più. Allora, quando è che può ancora funzionare quel tipo di organizzazione in cui ho strutturato funzionalmente o diviso i compiti per i saperi specialistici? Quando riesco ad avere delle situazioni in cui i capi di quelle strutture sono riusciti a passare dall'idea di fare gruppo all'idea di essere una squadra e quindi trovano nel mutuo aggiustamento la soluzione. Quindi si integrano bene perché hanno delle relazioni interpersonali che li aiutano a governare, quindi riescono a gestire con una discreta collegialità i problemi e questo è chiaramente più facile in organizzazioni che sono comunque ancora di dimensioni non enormi in cui magari ci si conosce da un certo tempo e soprattutto se è riuscito a costruire un certo rapporto di fiducia tra chi dirige. Il che vuol dire che se io oggi mi sacrifico sono abbastanza sicuro che tu domani mi darai indietro quel sacrificio che oggi sto facendo e non che sarà una continua rincorsa a ritrovare equilibri tra di noi. Quando il mutuo aggiustamento va in crisi, cosa fanno le organizzazioni? Pigliano le strutture funzionali e le girano di 90 gradi e dicono adesso mettiamo a capo uno della vicenda perché non siamo stanchi di dover trovare, di subire in qualche maniera le conseguenze della mancata integrazione che è l'allungamento dei processi decisionali, il fatto che si discute sempre delle stesse cose, il fatto che si dice che si fanno e poi non si fanno o il fatto che si fanno parzialmente, che si cercano i compremi, sono le cose che credo conosciate tutti quanti e allora dicono forse riconduciamo un po' di sana gerarchia il problema organizzativo, scegliamo qual è la variabile e passano dai modelli funzionali ai modelli cosiddetti divisionali con una maggiore collaborazione strutturata in cui c'è un capo e sotto ci sono riportate le funzioni e qualcuno ha la responsabilità di fare la sintesi. Quello che avviene quando non c'è qualcuno che fa la sintesi intermedia è che la sintesi la deve fare il capo ultimo, che è il direttore generale piuttosto che l'amministratore delegato, ed è chiaro che il direttore generale e l'amministratore delegato potrebbe a un certo punto anche stancarsi e dire scusate un attimo ma perché devo fare io la sintesi tra tutti voi? Ho bisogno di una linea intermedia che mi aiuti a fare quella sintesi e se riesco a fare la sintesi in un'azienda sanitaria di medie e piccole dimensioni come il direttore generale è molto più difficile farla in un'azienda di dimensioni molto grandi con migliaia di dipendenti e con ovviamente problemi che sono amplificati dalla dimensione. Quindi se in organizzazioni di piccole e medie dimensioni o in singoli ospedali strutture una struttura direzionale di tipo funzionale rimane possibile in quanto la direzione generale può facilitare una collegialità mista su problemi operativi e strategici un po' più complicato io penso sia, penso nel senso come dire, la letteratura ci racconta penso anch'io in parte sia in organizzazioni invece più grandi che lavorano in contesti più complessi, in ambienti più ostili dove serve invece proteggere meglio il tempo dell'influenza da quello dell'operatività dove io ho bisogno di avere qualcuno che sia in grado di guardare al futuro di generare le visioni, di produrre il cambiamento e qualcuno che invece mi faccia eseguire giornalmente ciò che l'organizzazione è chiamata a fare che quindi guidi l'operatività di tutti i giorni sono due sfere di lavoro che possono essere in capo alla stessa persona ma se non è in grado di proteggere il tempo per guidare come leader finisce per fare il manager operativo tutti i giorni e in organizzazioni molto grandi questo è chiaro che avviene perché i problemi sono tanti e tali che il tempo per dedicarmi alla pianificazione a traguardare i cambiamenti in un certo livello strategico diventa in qualche maniera molto limitato a fronte del fatto che tutti i giorni mi trovo a dover gestire N. Magagni peraltro tutto questo è amplificato poi dal fatto che i problemi di coordinamento nelle organizzazioni professionali aumentano perché i contesti professionali anche questo è un fatto riconosciuto in letteratura tendono a generare fisiologicamente un fatto fisiologico silos professionale cioè tendono in qualche maniera a proteggere prima la famiglia professionale e poi a occuparsi dell'organizzazione del suo complesso cioè se la dico un po' in maniera brutale però è naturale che se io sono a capo in una struttura funzionale che rappresenta una famiglia professionale gli interessi di quella famiglia professionale vengono un pochino prima degli interessi più generali dell'organizzazione almeno sono tentato a portare di ricondurre gli interessi dell'organizzazione verso gli interessi professionali quindi a rileggere la strategia e ciò che serve all'organizzazione in funzione di quello che mi chiede la mia famiglia professionale e quindi quando penso alla direzione delle professioni o penso alla direzione medica ospedaliera quando penso al mondo amministrativo è chiaro che questi tre mondi in qualche maniera tendono inevitabilmente a rileggere l'organizzazione dalla prospettiva dal basso verso l'alto e non invece da quella dell'azienda nel complesso verso l'alto questo non funziona tanto è vero che uno dei temi forti che abbiamo quando abbiamo le filiere professionali è quello di porci il problema di chi è a capo di quelle filiere professionali che sono in realtà l'equivalente di strutture funzionali perché alla fine quando io aggrego il mondo delle professioni aggrego il mondo dei medici da un lato e alleggo il mondo degli amministrativi dall'altra parte io di fatto ho ricreato come dire tre grandi ambiti funzionali che rispecchiano dei saperi specialistici delle prospettive di sviluppo di quel gruppo di persone allora quando io metto a capo qualcuno di quelle linee la domanda che ragionalmente dovrebbe porre chi dirige l'organizzazione è hai capito bene chi rappresenti perché se stai là sopra sei un dirigente dell'azienda non sei il rappresentante della professione e questa è una situazione molto delicata nel mondo delle aziende professionali perché è evidente che chi sta là sopra si sente prima di tutto legittimato da quanto consenso e da quanto riesce a costruire al proprio interno come dire una propria autorevolezza prima ancora che quella che gli viene data da una direzione gerale o comunque ritiene altrettanto importante in qualche maniera costruire un certo equilibrio tra lo sguardo rivolto agli interessi della pancia organizzativa e lo sguardo rivolto agli interessi organizzativi più ampi vi spiego meglio mentre nell'impresa se io nomino un alto direttore è chiaro che quello è nominato per eseguire dall'alto verso il basso e trasformare l'impresa e farla diventare esattamente quello che l'alta direzione si immagina diventi quando io nomino in un'organizzazione professionale qualcuno in un'altra direzione inevitabilmente quello comincia a ricercare gli equilibri tra la pancia perché sa perfettamente che poi avrà un sacco di difficoltà a gestire una situazione già molto complicata se quegli equilibri non li trovano quindi è un fatto fisiologico non sto dicendo che niente di strano e se è così però è chiaro che questo amplifica poi il rischio che se io lascio delle strutture funzionali separate tra di loro con delle autonomie e queste comincino a confliggere perché ognuno guardando gli equilibri interni dice che è più importante che questa cosa la facciamo noi che loro e quindi le sintesi organizzative alla fine finiscono sempre per arrivare al livello della direzione della direzione generale allungando i processi decisionali complicando la vita insomma le cose che credo tutti quanti sappiate e allora ho cominciato a riflettere e ho detto ma forse come dire abbiamo bisogno davvero di pensare a una innovazione istituzionale e per produrre un'innovazione istituzionale abbiamo bisogno di avere un pensiero forte un pensiero forte che cominci come dire a rileggere in maniera diversa il contesto delle aziende sanitarie e questa è la chiave di lettura di partenza la chiave di lettura dice abbiamo da un lato un tema di direzione strategica cosa che abbiamo negli anni costruito dentro le aziende sanitarie quindi oggi siamo abbastanza come dire consapevoli come dire che c'è una direzione allargata che è fatta da un direttore generale che è fatto da direttore sanitario amministrativo da direttore delle professioni magari da un direttore operativo magari da altre figure c'è una direzione che chiamiamo strategica che ha la responsabilità in primis quella del direttore generale ovviamente di produrre legittimazione istituzionale quindi di fare le cose come dire che istituzionalmente devono essere fatte nel risolvere la propria missione di costruire il consenso sociopolitico di generare capacità produttiva di mettere l'organizzazione nell'avere le condizioni le tecnologie le risorse umane e tutto ciò la logistica che serve per produrre e anche di definire quali trasformazioni e innovazioni tecnologiche dovrebbero traguardare quel percorso strategico questo è un lavoro che evidentemente richiede molto tempo dell'influenza e relativamente meno tempo dell'operatività c'è molto tempo in cui io mi dedico a creare queste condizioni a costruire i piani a portarle avanti a controllare l'esecuzione di una strategia a dialogare con l'ambiente esterno perché devo reagolare con l'ambiente esterno per produrre le relazioni a fronte di questo noi abbiamo bisogno dentro aziende sempre più complesse io credo invece di una direzione della produzione unitare e molto forte riportando a sintesi quelli che sono i componenti fondamentali che oggi dentro le aziende sanitarie portano avanti la produzione che sono quelli che alla fine hanno le risorse e le capacità per eseguire quello che strategicamente è stato deciso da un punto di vista in direzione strategica se a sinistra la domanda che si pone a direzione strategica è dove produciamo valore quali sono le cose che dovremmo fare per dare risposta ai bisogni dei cittadini per produrre quella presa in carico che magari vorremmo fare nel mondo territoriale per trasformare gli ospedali in quest'altra cosa che ci interessa a destra abbiamo poi qualcuno che si pone se ne pone il problema una volta che abbiamo deciso di fare certe cose facciamole e facciamole in tempi ragionevolmente come dire adeguati a quelle che sono le sfide attuali e facciamole con la migliore diciamo capacità esecutiva non dico nulla a distanza non è un discorso di alta sofisticazione però tende in qualche maniera a identificare il fatto che noi forse se fossimo in un'impresa se fossimo una grandissima impresa è chiaro che c'è una direzione della produzione che mette a sintesi tutti i componenti che servono per portare a casa dei processi organizzativi e produttivi molto complessi che nel vostro caso sono evidentemente fatti di professioni sono fatti di medici sono fatti di altre professioni ancora sono fatti di tecnologie di logistica del ricomporre tutta la capacità produttiva e allora io potrei cominciare a pensare che se guardo al futuro delle aziende sanitarie invece che parlare di una direzione sanitaria o di una direzione delle professioni o di una direzione medica o quant'altro o di una direzione operativa prima ancora ho bisogno forse di avere un contenitore più ampio che qui ho chiamato divisione governo della produzione quindi un box che faccia sintesi con una responsabilità di sintesi ultima che è la responsabilità di dire se c'è un tema di skill mix se c'è un tema di turni se c'è un tema di logistica se c'è un tema di riorganizzazione di alcuni processi produttivi che abbia la responsabilità finale di produrre la sintesi tra le posizioni e tra evidentemente le prospettive o le idee o in qualche maniera le azioni che sono portate dalle diverse anime funzionali o dalle diverse anime professionali che insistono sui processi produttivi questa divisione del governo della produzione potrebbe essere come dire il modo di leggere diversamente l'organizzazione delle aziende sanitarie io credo che siamo nel 2018 forse potremmo fare come dire un salto da questo punto di vista culturale non dico che si debba chiacchierano così ma è per dare la chiave di lettura come dire avremo probabilmente bisogno di avere qualche cosa di questo genere in aziende sempre più grandi sempre più complesse sempre più complicate che poi si avvale di una vice direzione dedicata magari alla pianificazione e sviluppo dei servizi con uno sguardo di più all'area medica magari di una vice direzione del sistema produttivo logistica sanitaria con uno sguardo a tutti i temi legati all'operatività alla logistica del paziente alla logistica sanitaria e quant'altro di una vice direzione magari del sistema delle professioni della patient experience dedicata a tutta l'area dell'organizzazione appunto del mondo delle professioni e di come dedico attenzione ai processi trasversali alla presa in carico al disease al case o come lo volete chiamare noi potremmo cominciare come dire a produrre questo era il pensiero su cui stiamo lavorando un po' di contaminazione istituzionale per dire forse come dire dopo 20 e passane 25 e passane di sviluppo organizzativo fatto in una certa direzione dentro un quadro istituzionale forse dobbiamo cominciare a pensare che serva anche prima di tutto una riforma del quadro dentro cui possiamo permettere alle aziende di generare degli sviluppi e serve anche un modo di guardare le cose diversamente un po' come dire non è inutile che continuiamo a chiamare i nostri URP dovremmo chiamarli servizio clienti perché se li cominciamo a chiamare servizio clienti li stiamo segnalando che forse il modo con cui devono lavorare non è esattamente quello che hanno lavorato fino a ieri che forse come dire se cominciamo a cambiare alcuni nomi a ricostruire alcuni elementi di aggregazione in maniera diversa forse creiamo le condizioni organizzative per cui le nostre aziende sanitarie pubbliche diventino più agili nel riuscire a governare la complessità crescente con cui si confrontano ora si può disegnare come l'ho messo in alto a destra ma in realtà quello che ho in mente è quello che c'è in basso a sinistra c'è una collegialità una governance più collegiale in cui sì c'è una direzione della produzione o un direttore della divisione produzione e poi che si avvale di una direzione del sistema farmaceutico di una direzione dei servizi sociosanitari di una direzione dello sviluppo professionale di una direzione delle tecnologie sanitari di una direzione del sistema territoriale della direzione del sistema ospedaliero e della direzione delle professioni è come quella cosa che vedete talvolta nell'impresa che c'è il president e ci sono i vice president io prendo quella roba c'è l'amministratore delegato del direttore generale che guida i rapporti con l'esterno e crea le condizioni per cui l'azienda sanitaria riesca a prosperare dentro un ambiente ostile a trovare le risorse e a fare le cose giuste e poi c'è una direzione una divisione che si occupa del governo della produzione che fa sistema al suo interno c'è una sintesi unitaria ora questo questo vuol dire come dire dal mio punto di vista evidentemente cominciare anche a dire che non è necessariamente il direttore sanitario come l'abbiamo inteso fino a ieri quello che farà il direttore della divisione della produzione perché potrebbe essere uno qualsiasi tra questi tra questi tra questi soggetti che sono dentro questa ragnatela o dentro questo milligram tant'è vero che abbiamo cominciato a lavorare anche partendo da questo pensiero dicendo beh noi io credo fermamente come dire che noi dobbiamo investire in una non dico formazione a parole sbagliate nel sostenere lo sviluppo di chi sta dentro questa grande area che ho chiamato appunto divisione governo della produzione e dobbiamo farlo come dire creando certamente a partire della formazione più attenta e quindi da questo punto di vista proprio perché però l'obiettivo è quello di aprire l'idea che chi dirige la produzione potrebbe essere un dirigente delle professioni e non necessariamente un ex direttore sanitario piuttosto che un direttore medico di presidio spediero perché è un ruolo manageriale un ruolo aziendale non è un ruolo professionale è un ruolo aziendale io sono là sopra per guidare le trasformazioni organizzative che convogono infermieri medici os e quant'altro tutti quanti e ha la responsabilità di trovare le sintesi per far costruire un'organizzazione che sia costruita a misura dei bisogni alla fine del paziente e che quindi trovi le ragionevoli sintesi tra gli altri che sotto hanno invece delle visioni necessariamente più tecniche e quindi dirige la produzione è una professione se è una professione assestante dalle altre ha bisogno di avere evidentemente dei quadri formativi dei quadri molto chiari e quindi ci può essere chi arriva ad una formazione specialistica finalizzata come potrebbero essere in prospettiva se riusciamo a riformare alcuni percorsi di formazione degli igienisti o degli specializzanti in quell'area loro i quali però dovranno poi fare comunque una formazione tecnomageriale per avere l'idoneità al ruolo ci potrebbe essere una formazione specialistica diversa di partenza ma con esperienza di ruolo equivalente assimilabile come il vostro o come quello dei direttori di distretto o in parte anche perché no come quello di alcuni direttori di dipartimento però poi gli chiedo magari di fare una formazione tecnomageriale più magari il recupero di alcune materie specialistiche che devo sapere per stare lassù in cima a fare il direttore aziendale della produzione perché non è di comparto ma è di organizzazione nel complesso oppure potrei arrivare ad una formazione specialistica completamente diversa senza esperienze o l'equivalente cioè il clinico o il vostro collega che non ha fatto l'esperienza direzionale ma che vuole ambire a quel ruolo deve farsi un percorso ancora più ricco ancora più complicato però quello che volevo sottolineare il punto di partenza di tutto il ragionamento è credo che aziende di dimensione e complessità una riflessione su come strutturano quel pezzo dell'organizzazione che ha la responsabilità alla fine di guidare gli altri nel generare i processi produttivi perché io credo che i dipartimenti possano svolgere il loro ruolo ma se sopra non hanno una direzione della produzione forte che è in grado di orientarle e indirizzarle non ce la faremo la storia ci insegna che dopo 30 anni le direzioni dei dipartimenti possono fare un po' gli strateghi ma sicuramente non hanno la capacità di gestire l'operatività crescente soprattutto poi in aziende dove i dipartimenti sono delle robe di proporzioni infinite che hanno magari estensioni di 100 km con strutture sparse su N-city con tutta la complessità quindi io li posso aiutare a trovare un pensiero strategico sul sviluppo della linea dipartimentale ma poi c'è bisogno di una squadra dietro che lavori per far succedere le cose per monitorare e controllare l'esecuzione allora torno indietro il pensiero è questo è chiaro che se io leggo questo pensiero in questa fase storica dentro i quadri istituzionali un minuto uno dice ma quella roba lì è la direzione sanitaria quindi stiamo riportando come dire la gerarchia dentro la direzione sanitaria tutte le altre strutture io posso dire sì effettivamente è così la lettura immediata dentro il testo istituzionale è quello ma il pensiero su cui io vorrei in qualche maniera convergere è il fatto che noi abbiamo bisogno di pensare che le direzioni sanitarie dovranno cambiare nome cambiare pelle e pensarsi veramente come direzioni aziendali che governano la produzione che si aprono quindi a dei profili di ruolo e a degli sviluppi professionali diversi da quelli che qualcuno si immagina perché qualcuno dice no devono essere solo i medici in direzione ospedaliere dico col cavolo che devono essere solo i medici se lo sono capaci possono ambire a fare quel ruolo ma alla pari di quanto lo sono altri professionisti che arrivano da altre strade e che possono essere altrettanto capaci sono più capaci perché quando vai là sopra non fai il direttore dei medici ma fai il direttore di tutta l'area della produzione che vuol dire che devi trovare delle sintesi devi essere legittimato appunto tale da riuscire a parlare il linguaggio vostro il linguaggio loro il linguaggio del mondo degli ingegneri clinici il linguaggio degli farmacisti eccetera ed è altrettanto evidente che per passare a qualcosa di questo tipo abbiamo bisogno di fare con calma dei passaggi e prima di tutto di fare una riflessione che vada a contaminare i quadri istituzionali i quadri normativi con cui ci confrontiamo io sono tranquillamente credo che avremo quella geometria variabile che serve al sistema per cui alcune aziende potrebbero pensare a questo come una soluzione perché si trovano nelle condizioni di poterlo fare altre aziende mantengono la struttura di autonomia delle varie strutture perché tanto le sintesi avvengono molto bene perché c'è una squadra un mutuo aggiustamento che va per la maggiore o che funziona molto bene però in prospettiva se dovessi disegnare e lo dico in maniera un po' provocatoria delle linee guida o comunque degli indirizzi non vincolanti ma che siano di ispirazione probabilmente partirei da un ragionamento di questo tipo per dire dopo tanti anni in cui abbiamo ragionevolmente e giustamente consentito come dire l'affermazione di anime all'interno delle aziende che avevano bisogno di trovare una loro identità la vostra oggi stiamo lavorando sulle direzioni operative più che ancora sulla vostra e su altre ancora adesso probabilmente dobbiamo porci il problema di come ritrovare delle sintesi che ci aiutino a rendere più efficaci possibili i processi decisionali più rapidi e unitare le responsabilità non so se questa è l'unica visione possibile volevo condividerla con voi io ringrazio ancora per l'invito la possibilità di essere qua oggi io credo ma la domanda la pongo a voi che questa possa essere come dire almeno l'inizio di quella che gli inglesi chiamerevano un'inspiring vision su un'idea di come ci immaginiamo il futuro usando però etichette nuove linguaggi nuovi e costruendo e popolando di contenuti nuovi quelli che sono gli assetti organizzativi di questo mondo molto complesso che è quello della produzione che ripeto mi sono posto il problema perché abbiamo visto in questi ultimi dieci anni una stratificazione crescente di ruoli e di responsabilità di duplicazione a volte perché quando tu hai poi le strutture funzionali dupliche perché c'è quello che fa le risorse umane quello che fa lo sviluppo quello che fa la formazione c'è n situazioni che possono forse oggi essere affrontate con più serenità in una logica di progressiva come dire ricerca di sintesi che siano organizzativamente diciamo fit o coerenti con le problematiche con cui le nostre aziende sanitarie si confrontano e voi siete credo ormai sufficientemente forti per potervi sedere al tavolo e con serenità discutere del fatto che questa non è una visione che va a dirtimento della professione ma che al contrario potrebbe aprire lo spazio per una crescita ulteriore dei vostri ruoli oltre quello che è il ruolo di direzione dell'ambito professionale stretto che rimane importante ma che potrebbe però dopo anni di esperienze alcuni di voi aprirvi la strada a fare quello che qui ho chiamato il direttore della produzione io finisco qua grazie grazie al professor Lega che prego se si accomoda qui al tavolo e poi rimandiamo alla fine di tutte le relazioni le domande anche questa relazione sicuramente ha stimolato la Vlatea a riflettere anche su quanto detto dalla Presidente a conclusione della prima sessione dei lavori ed ora inviterei tutti gli altri relatori ad accomodarsi qui sul palco quindi Stefano Simonetti Giorgio Cavallero Marinella D'Innocenzo Dario La Quintana Siamo entrambi pelati che oggi ha avuto è stato un nuovo incarico da oggi il professore Lega alla quale è venuto dall'estero e alla quale ci teneva tanto a partecipare a questa nostra iniziativa non ha voluto mancare quindi ne approfittiamo anche a nome del Comitato Centrale per farvi gli auguri e i complimenti Bene ora Cosimo se voi possiamo già iniziare con le prime relazioni così recuperiamo pure un po' intanto l'hai già detto tu che sostituiamo Franco Valicella ci sono voluto due consiglieri per un tesorire e un consiglieri per sostituirlo già gli spunti per quelli che sono gli argomenti che vengono trattati oggi ce li ha date la Presidente Barbara Mangia Cavalli a conclusione della prima sessione noi oggi tratteremo come seconda sessione la cassetta degli attrezzi innanzitutto che è un termine che sta molto a cuore alla Presidente e parleremo di luce e ombre dei nuovi contratti intanto su questo argomento per quanto riguarda l'aspetto della rappresentanza della professione anche la federazione è intervenuta su questo argomento come rappresentanza professionale e oggi ce ne parleranno il primo sarà il professore Stefano Simonetti che ci parlerà del nuovo nuovo contatto del comparto della sanità Simonetti esperto ed autore di pubblicazioni in materia di organizzazione e gestione del personale nonché già negoziatore dell'Aran quindi passerei subito la parola al Dottore Simonetti Buon pomeriggio a tutti quello per il quale sono stato invitato a parlare è un argomento che immagino sia di un'attualità pressante è un mese esatto che è entrato in vigore il nuovo contratto e è un contratto che ha tantissimi risvolti per motivi che tutti conosciamo i lunghi anni di vacanza contrattuale la complessità i vincoli le ristrettezze però vorrei fare una premessa perché secondo me i grossi i due grossi nodi insormontabili se non cambia qualche cosa per la professione infermieristica hanno una natura extracontrattuale e il contratto poco poteva fare a mio giudizio i due maggiori problemi che affliggono la professione infermieristica sono le carenze organiche e la non copertura del turnover che ormai perdura da troppi anni con tutta una serie di sottocategorie che sono l'inidoneità temporanea l'inidoneità totale tutte le leggi che consentono illusioni per la completa esplicazione del servizio d'istituto e la seconda è quella del reclutamento che ha una criticità evidente quando si legge sul giornale quello che succede al Policlinico di Roma o a Monza ma anche quando va meglio il concorso della Toscana sfido qualcuno ad affermare che un concorso con 16.000 domande sia lo specchio di quello che dice la Costituzione cioè della ricerca dei migliori se qualcuno afferma che con 16.000 domande che portano un abbattimento del 70-80% con la preselezione si sono selezionati i migliori beh allora parliamo d'altro quindi questi due grossi aspetti che credo sia condivisibile essere le maggiori criticità della professione infermeristica sono fuori dalla portata del contratto il contratto poteva fare solo alcuni interventi in tema di trattamento normativo mi viene da dire anche economico anche se quello economico che è il motivo per il quale due sigle non hanno firmato soprattutto il motivo per il quale ci sono delle lettere aperte al governo per la situazione obiettivamente irrisoria degli aumenti e quant'altro non lo toccherò questo argomento perché è un argomento delicatissimo io ho scritto e purtroppo lo devo confermare che i famosi famigerati 85 euro pro capite sono anche di più di quello che le regole del gioco consentivano attenzione stiamo parlando di una cosa che va fatta nel contesto in relazione alle regole del gioco non in assoluto è evidente che per una professione usurata importante e numerosa come quella infermieristica gli 85 euro sono irrisori offensivi ma è altrettanto evidente che le regole sono queste i comparti del pubblico impiego mettono insieme 3 milioni e 200 mila persone e vorrei anche in qualche modo pensare che se non ci fossero stati due eventi elettorali per i quali si sono accelerati i tempi abbastanza frettatamente probabilmente il contratto neanche ci sarebbe stato senza quei due eventi elettorali quindi scevriamo la parte economica che ci porterebbe lontano e in una polemica che non porta nulla di buono stiamo al contratto collettivo che oggi compie un mese la parte che mi è stata assegnata è evidente che in mezz'ora si può parlare di un argomento e l'argomento che credo possa essere il più interessato e quantomeno perché il più innovativo o quello più foriero di novità è i nuovi incarichi funzionali di vecchi incarichi di organizzazione eccetera eccetera però mi sento di fare proprio come uno slogan una sintesi brevissima sintetica della portata del contratto elencando quattro aspetti che a mio giudizio possono essere considerati positivi ma per essere coerente con me stesso anche quattro aspetti di negatività del contratto allora parliamo prima delle cose positive la prima cosa indiscutibilmente positiva è la stessa firma del contratto perché venendo dopo nove anni dal 31 luglio del 2009 è già un fatto assolutamente positivo che esista un contratto collettivo la seconda riguarda le relazioni sindacali il protocollo del 30 novembre 2016 quello che è stato poi trasfuso nel decreto 75 e un ritorno vogliamo dire partecipativo a un modello di relazioni sindacali ha attenuato la rigorosità la rigidità del modello di Brunetta che per quanto fosse promozionato come recupero d'efficienza eccetera eccetera ha fallito completamente perché era talmente rigoroso era talmente divisivo che nessuno l'ha applicato sfido un'azienda in Italia che abbia applicato rigidamente le regole di Brunetta prima tra tutte il famoso 40,3 ter sulla autodefinizione delle materie sindacali quindi benvenga un recupero di partecipazione che non debba essere naturalmente un ritorno agli anni 80-90 con la cogestione il consociativismo quindi una giusta leale via di mezzo tra quello che era fatto col potere di veto su tutto e quello che è stato ipotizzato e mai realizzato nel 2009 da Brunetta che era un sistema divisivo esclusivo che sicuramente non avrebbe portato e non ha portato infatti nulla in un comparto delicato come il Servizio Sanitario Nazionale e sono due la terza è la soluzione che è stata data ad alcune partite estremamente conflittuali estremamente spinose che aggravavano da anni le aziende sanitarie mi riferisco al tempo tuta mi riferisco alla durata settimanale massima del lavoro e alla pronta disponibilità e una cosa che pochi hanno apprezzato e invece da bieco burocrate vi dico che è una cosa eccezionale è quella della definizione degli avvisi pubblici dove c'era il caos assoluto almeno finalmente dopo qualcosa come 30 anni abbiamo una norma che consente all'azienda sanitaria di fare una propria regolamentazione di come si fa l'avviso pubblico io credo che tutti voi abbiate avuto modo di vedere come 10 aziende campione fanno 10 avvisi diversi la modalità di pubblicazione la valutazione di che cosa titoli titoli colloquio colloquio motivazionale qualcuno fa i test psicoattitudinali il caos è più completo almeno adesso abbiamo una fonte normativa che ci dice come si deve fare il quarto e ce l'ho messo per fare pari con le cose negative perché è come capite un mezzo aspetto positivo è che ci sono le basi per un cambiamento del sistema ordinamentale dico le basi perché tutta la prima parte è rinviata ai lavori di una commissione che però fra un mese finisce i lavori siamo tutti contenti che ci porterà ai lavori di questo intervento ma anche quello di cui parlerò fra due minuti cioè il sistema degli incarichi per carità si vede che c'è parecchio da sviluppare e ci sono parecchie chance organizzative e parecchie anche occasioni di strategie nuove però è tutta da vedere e ha qualche piccolo buco nero per tutti il finanziamento del sistema sul quale è proprio un'apertura di credito metterlo tra le cose positive perché alla stessa stregua lo potrei mettere tra le cose negative perché è un bellissimo sistema che almeno per metà della sua consistenza ha un punto interrogativo notevole sulla parte finanziaria le quattro cose negative molto brevemente ce n'è una che io chiamo effetto fotocopia quando sono stato presentato come ex negoziatore Aran io ho lavorato all'Aran nel 94 fino al 98 quando si sono fatti una quindicina dei contratti collettivi e già all'epoca io soffrivo da persona assolutamente insofferente a queste imposizioni l'effetto con fotocopia che cosa vuol dire vuol dire che nel pubblico impiego è sempre partito per primo il comparto dei ministeri che oggi si chiama funzioni centrali poi le autonomie locali è sempre venuta la sanità con tutte le sue specificità e peculiarità per ultima ebbene una gran parte diciamo un terzo delle clausole contrattuali erano imposte effetto fotocopia quelle degli statali e francamente è offensivo è abbastanza abnorme e poi crea dei problemi di non compatibilità io sono vent'anni avevo i capelli neri quando dicevo che non si può scrivere una norma sulle ferie del personale del servizio sanitario nazionale facendo riferimento ai turni di sei giorni ai turni di cinque giorni che l'80% della nostra gente non fa né cinque giorni né sei giorni mi devi dare una norma che sia calata su chi fa i turni H24 non sui turni dei ministeriali per capire che cos'è l'effetto fotocopia ebbene in questo contratto ci sono una trentina di norme copiate esattamente dalle funzioni centrali non è a volte rispettata la peculiarità del servizio sanitario che ha bisogno di sue diversità questa è la seconda scusate la seconda è una col cuore in mano lo devo dire una sciatteria del contratto pieno di errori ci sono state 74 correzioni tra la preintesa e il testo definitivo e questo è già un segno che si è lavorato ma nel testo definitivo sono rimaste decine di errori ci sono termini obsoleti termini io non so se qualcuno di voi ha letto l'articolo 86 ma che siete operatori professionali lo eravate nel 761 ma io dico nel pieno del 2018 con quello che nei programmi si legge dobbiamo leggere ancora i reparti dialisi eccetera eccetera e l'ospedale per intensità di cure e l'infermiere di famiglia e di comunità e le unità di degenza infermieristiche e pensare che il comitato di settore aveva detto alle parti di aggiornare anche gli items dell'articolo vecchio articolo 44 ma è brutto rileggere nel contratto cose che erano di 20 anni fa c'è addirittura nell'articolo 88 l'indennità cert con la T che non c'è da 20 anni quindi questo dimostra anche per carità la forzatura che è stata fatta negli ultimi giorni di febbraio la conosciamo tutti perché siamo uomini di mondo e non veniamo dal canton Ticino però c'è un limite a tutto ci sono delle cose che gridano vendetta nella sciatteria per esempio le disapplicazioni poi è stata corretta ma era meravigliosa questa incongruenza sembrava veramente il comma 22 di 40 anni fa e si dice l'indennità rischio radiologico è mantenuta e nell'articolo dopo veniva disapplicata la norma del contratto del 2001 beh insomma di quelle ce ne stanno anche altre l'altra cosa è quella che sono rimaste irrisolte neanche toccate alcune grosse problematiche io sono uno di quelli che ha sempre detto che l'accesso alla mensa non è regolamentato perché francamente neanche la più contorta mente democristiana poteva dire che ha diritto ad accedere alla mensa il dipendente in funzione dell'articolazione dell'orario di servizio domanda clamorosa ma l'infermiere smontante mattina ha diritto ad andare a mensa o no? il contratto non dà una risposta perché dice in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro metà aziende italiane lo fanno mangiare metà le aziende italiane vanno alla corte dei conti perché sono citate per danno erariale quindi questa era una delle cose diciamo che si poteva rivedere ma ce n'è una che è nata dopo il contratto ed è clamorosamente importante per la sanità non è stato detto nulla ed è stata confermata l'aspettativa per vincita di avviso ed è il vecchio articolo 12 del contratto del 2001 su cui nessuno ha mai avuto delle difficoltà interpretative c'è stata una sentenza della Cassazione che ha detto che non è obbligatoria ma è discrezionale vabbè ma esiste invece sta girando una tesi peraltro neanche campata in aria perché nelle amministrazioni centrali e locali è così che questa aspettativa costituirebbe cumulo di impieghi e quindi è totalmente illegittima questo per la sanità è devastante perché lo sapete benissimo che in sanità il ricorso all'aspettativa per vincita di soprattutto nel flusso nord-sud è frequentissimo quindi è un problema che secondo me il contratto doveva affrontare ribadendola coscientemente se doveva rimanere oppure disapplicando la norma del 2001 se un contesto generale suggeriva di provvedere a superare questo problema l'ultima cosa è che ci sono dei rinvii al il gruppo la commissione per l'ordinamento quindi delle cose sono rinviate e quasi da dirla sottovoce la madre di tutti i problemi è le integrazioni del fondo su cui c'è un dubbio assolutamente in qualche modo parossistico su questo vincolo che c'è con il fondo 2016 che si è applicato rigorosamente senza neanche quello che dicono le parti nella dichiarazione congiunta numero 5 beh metà del contratto non si riesce ad applicare quindi siccome i collegi sindacali hanno il rappresentante del MEF e il MEF in questo paese non brilla per apertura mentale brilla soltanto per essere di un'ottusità incredibile se passerà la tesi che il tetto del 2016 è insormontabile è assolutamente un vincolo perenne e non transitorio come io sostengo beh tante cose degli incarichi ma tante cose anche dello sviluppo professionale poi voglio vedere come si garantisce il 30% all'accessorio con queste premesse e con queste cose come si garantisce anche lo sviluppo del premio individuale che è anche nel contratto quindi ci deve essere un'elite di dipendenti che deve avere almeno un 30% di premio in più degli altri colleghi queste sono diciamo in una sintesi assolutamente come avete visto secca e anche piuttosto brutale le panoramiche del contratto quindi adesso andrei a parlare della materia specifica degli incarichi rispetto ai quali c'è qualche cosa di assolutamente nuovo c'è qualche cosa che è assolutamente tradizionale però le metto tutte in fila in maniera che cerchiamo di dare una panoramica di quello che sarà la materia degli incarichi come fa ah sono io che vado perfetto allora il nostro ordinamento professionale è sostanzialmente quello di sempre non è cambiato noi abbiamo i ruoli che per quanto tutti sappiamo essere superati il comitato di settore ha detto che sono obsoleti e poi qualcuno si è in qualche modo ricordato che i ruoli sono una materia riserva di legge il contratto non ci poteva fare niente quindi il contratto ha preso atto che esistono i quattro ruoli però ha introdotto il concetto di aree prestazionali ora per i due estremi l'area sanitaria e l'area della gestione delle risorse dei fattori produttivi cambia nulla voi eravate nel ruolo sanitario siete nell'area prestazionale sanitaria gli amministrativi o i geometri tecnici stanno nel ruolo professionale o tecnico amministrativo e staranno nell'area dei fattori produttivi il problema è il ruolo del socio sanitario che poi con l'intervento della legge Lorenzin la 3 del 2018 con l'aggregazione abnorme che è stata fatta in questa area prestazionale sociologo assistente sociale educatore professionale EOS un profilo della dirigenza e tre profili del comparto dovrà dirci tutto questa commissione insediata all'Aran perché per adesso non si capisce praticamente nulla e una cosa che sarà fondamentale è capire l'intersecazione la sovrapposizione tra i vecchi ruoli e le nuove aree professionali prestazionali categorie e livelli rimangono rimane i due livelli economici BS e DS questo lo dico perché c'erano stati anche dei momenti in cui si era pensata un possibile superamento come rimangono i profili professionali credo che i profili professionali il prossimo contratto dovrà pensare anche al chiropratico all'osteopata perché chiaramente nei profili sanitari i 22 esistenti al momento della stipula del contratto sono stati poi in qualche modo affiancati da questi altri due come uguali sono gli strumenti di sviluppo professionale abbiamo sempre le progressioni orizzontali che è quella che in assoluto interessa di più che sono emolumenti pensionabili fissi irreversibili dati con una certa tradizionalità non sono soggetti a umori della direzione o sono soggetti a strategie strane è quello che piace di più la fascia economica e gli incarichi di funzione che sono quelli che tratteremo adesso gli incarichi di funzione novità assoluta sono di due tipologie incarichi di organizzazione e incarichi professionali gli incarichi di organizzazione li avevamo gli incarichi professionali sono completamente nuovi anche se nella legge 43 se ne parlava ricordo che la legge 43 è del 2006 quindi stiamo a 12 anni dalla legge 43 gli incarichi di organizzazione hanno una filiera unica quindi non c'è più a livello semantico la posizione organizzativa e il coordinamento abbiamo una filiera che va da 12.000 a 1.678 euro che non sono aumentati sono i 1.500 euro divisi 12 e moltiplicati 13 stiamo sempre su valori standardizzati e è ovvio che è facile ritrovare negli incarichi di organizzazione le ex posizioni organizzative e gli ex coordinamenti sono sovraordinati agli incarichi professionali cosa voglio dire non è semplicemente un aspetto chiamiamolo gerarchico ma io credo di poterci leggere anche un input di tipo economico nel senso se è sovraordinato un incarico professionale nel momento in cui vengono graduati e assegnato un valore economico agli incarichi professionali è difficile da credere che ci sia un incarico di specialista che sia più alto di un incarico di organizzazione se no non avrebbe senso quello che hanno detto le parti gli incarichi professionali cioè quelli nuovi sono di professionista specialista e professionista esperto l'indennità di incarico a questo range i 12.000 euro in effetti sono un leggero arrotondamento in alto e invece i 1678 sono semplicemente una nuova composizione io ho fatto una mera assolutamente personale e discrezionale ipotesi di filiera perché è una cosa discrezionale assolutamente ipotetica perché io ho messo gli incarichi minimi o vuol dire organizzazione p vuol dire professionale o 1 o 2 p 1 p 2 ma potrebbero essere 20 perché potrebbe essere che nel range tra 12.000 euro e 1.678 se ne facciano se ne costruiscono utilizzando i 5 items del contratto se ne costruiscono n e infatti vedete che tra ogni rigo c'è n che vuol dire che potrebbero essercene altri quindi dal massimo che il top dell'incarico di organizzazione valutabile in 12.000 euro poi abbiamo l'incarico di organizzazione e scordinamento che teoricamente dovrebbe stare sotto teoricamente poi abbiamo un cut off a 3.227 euro gli incarichi che possono anche essere titolari dipendenti in part time e sempre alla medesima cifra gli incarichi sotto i quali c'è diritto a percepire lo straordinario perché è evidente che non sarebbe neanche più un incentivo avere l'incarico se si perde completamente lo straordinario fino ad arrivare all'incarico base che è il più basso dei professionali che è 1678 euro il percorso è molto complesso e potrebbe anche essere lungo io su questo credo anche avendo sentito in giro per l'Italia come la pensano i diretti interessati e alcuni direttori che potrebbe addirittura andare abbondantemente nel 2019 per motivi assolutamente tattici per motivi di clima interno ma per alcuni versi anche per motivi squisitamente finanziari perché se non arrivano i 91 euro il primo gennaio 2019 degli incarichi professionali ovviamente non se ne può neanche parlare comunque al di là delle scelte direzionali quello che si può dire che il percorso è molto complicato e credo che sia abbastanza scontato fare riferimento a quello che da vent'anni è la graduazione degli incarichi dirigenziali perché il sistema è evidentemente preso mutuato dalle aree dirigenziali allora innanzitutto c'è da individuarli quanti e come si chiamano ed è una cosa di competenza esclusiva dell'azienda poi c'è la graduazione una volta che ho detto quanti me ne servono e come si chiamano vanno graduati ora nelle varie nei vari step del percorso ci sono quattro volte sottolineate delle parole che sono il passaggio sindacale obbligatorio quindi qui troviamo il primo criterio da definire previo confronto il confronto è la vecchia concertazione è l'upgrading della concertazione quindi su questo c'è bisogno della concertazione poi c'è la definizione del trattamento economico che è una decisione aziendale sulla base delle risorse disponibili del fondo dell'articolo 80 che sono materia di contrattazione integrativa però io ho messo un'aggiunta mia personalissima di fatto blindata perché si può anche andare in contrattazione integrativa a dire allora del fondo 1 quello dell'articolo 80 quanto destiniamo agli incarichi a meno che il direttore generale non venga colpito da TSO immediato quello che si riserva agli incarichi è quello che io mi rimane levando quello che serve per le condizioni di lavoro nel senso è un vuoto per pieno lo storico che io avevo l'anno scorso lo devo ottenere altrimenti si rischia che a novembre non pago lo straordinario le pronte disponibilità quindi quello che è spendibile per gli incarichi è esattamente la differenza tra il valore del fondo e quello che mi serve per garantirmi la sopravvivenza sulle condizioni di lavoro se poi i percorsi virtuosi hanno portato alla fine dell'anno ad avere dei residui sulle condizioni di lavoro ci sono dei sistemi per poter gestire i residui i criteri di conferimento sono definiti dall'azienda previo confronto la procedura d'assegnazione assolutamente novità il bando perché molte aziende lo facevano ma vi confermo che nell'articolo 20 del contratto del 1999 non c'era affatto la necessità o l'obbligo di fare un bando di selezione l'assegnazione viene fatta con atto scritto dell'azienda io preferisco che sia una nuova azione di un elemento del contratto individuale mi pare più aziendalistico la valutazione anche questo è un argomento interessantissimo è annua e a fine in carico i criteri devono essere fatti nel piano della performance previo confronto con le organizzazioni sindacali il rinnovo viene fatto da parte dell'azienda una sola volta senza selezione vuol dire che a 10 anni 5 massimo più 5 si deve o rivincere la selezione o andare a fare un'altra cosa qui ci sono due letture io credo che quella drastica sia impraticabile perché c'è una lettura di qualcuno che dice che comunque dopo 10 anni non puoi più fare quella cosa io la trovo una follia perché se io ho un ottimo quadro che mi fa bene quella cosa se mi rivince la selezione allo scadere dei 10 anni siamo tutti contenti ma non posso neanche rinunciare alla facoltà e alla chance organizzatoria che se in questi 10 anni c'è un altro dipendente che ha maturato una migliore professionalità non lo vado a comparare e se ce n'è uno migliore la prenderà lui non ci deve essere secondo me né una blindatura a vita ma neanche questo dell'obbligo di andare a fare un'altra cosa dopo 10 anni la revoca nel vecchio contratto si ipotizzava chiaramente la valutazione negativa e la ristrutturazione aziendale oggi ci sono tre motivazioni da parte dell'azienda su criteri stabiliti previo confronto le motivazioni sono modifiche organizzative la valutazione negativa la perdita dei requisiti di assegnazione che sostanzialmente che cosa potrebbe essere potrebbe essere che io ho un incarico di organizzazione alto ma per motivi personali chiedo di passare part time siccome il part time è incompatibile con gli incarichi sopra i 3.200 euro perdo l'incarico di organizzazione se io perdo la categoria D per vari motivi non stiamo a entrare quali possono essere dei fatti specie è evidente che mi assorbe anche la perdita dell'incarico per la valutazione negativa è obbligatorio il contraddittorio che mi sembra anche questa è una cosa assolutamente da sottolineare attenzione alla norma transitoria perché la corte dei conti e il MEF hanno capito che il sistema è così complicato e così articolato che hanno detto ma quanto ci si metterà a mettere a regime questo sistema e nella relazione illustrativa l'Aran ha detto assolutamente il processo dovrà avvenire nel minor tempo possibile allora siccome io non sto qui né a difendere una parte né a difendere un'altra ma soltanto a difendere il buonsenso vi dico qual è il tempo minimo e il tempo massimo il tempo minimo è già scaduto perché vi garantisco se mi ci metto io ci si riesce che in 45 giorni si hanno gli incarichi e avendo la preintesa dal 23 febbraio i contenuti li potevo già aver gestito e io oggi avrei già gli incarichi ma questo capite bene che ha qualche piccola variabile indipendente il termine massimo come qualcuno già mi ha detto è abbondantemente il 2019 io spero che ci sia una via di mezzo nel senso che soprattutto quelli di organizzazione che hanno un consolidato finanziario non hanno da aspettare l'uzio d'America si possano gestire entro il 2018 è evidente che qualche difficoltà maggiore ce l'hanno gli incarichi professionali non solo per l'aspetto finanziario ma anche perché per il professionista esperto il rinvio a quei percorsi integrativi formativi regionali certo spiazza un pochino quindi i tempi sono assolutamente non canonizzati l'Aran ha detto deve avvenire nel minor tempo possibile che vuole dire tutto e vuole dire niente adesso vediamo random le caratteristiche degli incarichi gli incarichi riguardano tutti i ruoli i requisiti sono fissati dal contratto collettivo e dalla legge perché per esempio per l'ex coordinamento che coordinamento rimane perché di legge non può essere sparito i requisiti sono fissati soprattutto quelli di titolo di studio sono fissati dalla legge cinque anni per tutti in categoria D meno gli incarichi di organizzazione per gli incarichi di organizzazione meno il coordinamento perché per il coordinamento la legge 43 non prevedeva cinque anni prevedeva soltanto il master di primo livello per tutti i ruoli per i ruoli PTA meno l'assistenza sociale sono un'unica tipologia quindi gli amministrativi i geometri i collaboratori tecnici eccetera hanno non il doppio il doppio range organizzazione professionale ma hanno una tipologia sola ho messo meno l'assistenza sociale perché l'assistenza sociale non sta in quella norma ma sta e la Corte e il MEF l'hava subito pizzicata aveva detto l'assistenza sociale non è un profilo sanitario non deve stare lì e nella dichiarazione congiunta nella relazione illustrativa è stato detto sì vabbè che c'entra non si chiamerà coordinamento ex legge 43 però sta lì e rimane lì non si poteva in qualche modo sconvolgere tutto il sistema non sono cumulabili tra loro quindi chi ha un incarico di organizzazione non potrà mai avere anche l'incarico di specialista tutti sono conferiti a tempo e mediante selezione questo vale come dire il prezzo del biglietto dello spettacolo nel senso tutti sono a tempo da 3 a 5 anni prima non era così prima c'era sostanzialmente una posizione organizzativa che se non ci fossero state delle ristrutturazioni aziendali poteva anche essere perenne fino al pensionamento adesso invece da 3 a 5 anni e tutte mediante selezione gli incarichi di organizzazione sono sovraordinati a quelli professionali ho detto come potrebbe essere letta questa cosa il coordinamento della legge 43 è ricompreso negli incarichi di organizzazione non vale per gli assistenti sociali questo era ovvio valutazione annuale e valutazione a fine incarico le modalità di valutazione il contratto dice che devono essere legate al piano della performance e questo mi sembra giusto ma quello che non dice il contratto e sarà l'azienda a doverlo dire è chi valuta e questo credo che sia assolutamente fondamentale che sia autoreferenziale un infermiere non può che essere valutato da un dirigente infermieristico mai e poi mai da un medico se no torniamo indietro 20 anni questo è per tutte le materie ma non soltanto io ho riscontrato che ancora in molte aziende italiane ed è assolutamente un problema loro però voglio voglio soltanto segnalare che le scuole di pensiero che informano queste scelte sono assolutamente legittime ma poi non possono non essere tacciate di stare 20 anni indietro le sanzioni disciplinari e un infermiere non possono essere a carico del primario e la valutazione del periodo di prova di un infermiere non può essere del primario tutta la gestione quotidiana o la gestione dello sviluppo professionale deve essere fatta dal dirigente infermieristico anche perché si metterebbe molto in dubbio la nascita lo sviluppo e la stessa essenza della direzione infermieristica ultima cosa molto molto speculare molto importante è che non c'è alcuna tutela economica per chi perde l'incarico chi perde l'incarico per valutazione negativa neanche a parlare per ristrutturazione aziendale è stata disapplicata la norma del contratto del 2009 del 99 che diceva che si assegnava virtualmente una fascia al perdente in carico non c'è più ma soprattutto questo credo che sia una bruttissima notizia se qualcuno non ci aveva riflettuto dal nuovo sistema che entrerà in vigore il giorno dopo che sarà finito quel percorso che abbiamo visto coloro che fino a oggi avevano una posizione organizzativa al coordinamento e non avranno l'incarico di organizzazione nel nuovo sistema non c'è tutela fino a un giorno l'hai avuto quindi non ci sono diritti quesiti non dite acquisiti non ci sono tutele non ci sono paracadute non c'è niente questo è una cosa che è bene che venga metabolizzata subito perché se no dopo il problema potrebbe essere grosso il valore di un'ex posizione organizzativa può essere abbassato se io avevo la posizione da 9.000 euro che era il massimo non ha alcuna garanzia che nel nuovo assetto mi diano un incarico di organizzazione di 7.000 euro possibilità di conferire incariche ai comandati sono assolutamente convinto che se non si ammette questa cosa tutto quell'assetto organizzativo che Federico Lega ci ha fatto vedere prima pensate soltanto in Veneto l'azienda zero pensate a Lisa in Liguria pensate a tutte le situazioni in cui c'è un forte ricorso al personale comandato se non si possono dare gli incarichi di organizzazione ai comandati le regioni perdono una grossa chance organizzatoria quali sono le vere novità innovazioni è scritto piccolo piccolo ma c'è innovazioni totali l'obbligo della selezione la durata la valutazione parzialmente perché adesso si dice molto molto precisamente che c'è una valutazione annua e una valutazione a fine incarico nel vecchio contratto del 99 era molto sfumata la questione la revoca anche qui parzialmente perché se ne parlava di una sola quella per ristrutturazione aziendale e poi la novità chiaramente degli incarichi professionali il sistema è platialmente ispirato a quello della dirigenza allora se per le posizioni organizzative e i coordinamenti possiamo dire che c'è un consolidato finanziario indistinto indistinto non Simonetti che aveva 9.000 euro riparte da lì dico il valore complessivo delle posizioni organizzative e dei coordinamenti è la base finanziaria sulla quale l'azienda farà le sue valutazioni per i professionali non c'è niente di storicizzato i professionali hanno queste risorse disponibili gli importi consolidati per le ex posizioni organizzative e gli ex coordinamenti i 91 euro che arriveranno il primo gennaio del 2019 non lo metto il 365 del 31 dicembre 2018 mi sembra quasi offensivo non si possono utilizzare le risorse che si possono portare dal fondo dell'articolo 81 perché perché il contratto dice il comma 4 di anno in anno e quindi quelle sono risorse che possono semmai servire per parare eventuali valori in rosso delle condizioni di lavoro quindi sono risorse aleatorie traccianti anno per anno utilizzate facciamo un esempio così ci capiamo meglio un'azienda che ha 3.000 dipendenti del comparto facciamolo facile il calcolo se no ci mettiamo in difficoltà 91 euro per 3.000 da 273.000 euro che consentono di conferire dal 2019 162 incarichi professionali al valore minimo di 1.672 euro cioè pari a circa il 6% del personale questo è diciamo la base di partenza poi ne voglio dare più alti deve essere chiaramente una coperta che viene tirata da sopra per poterla allungare da sotto questa è la base di partenza tutto il resto chiaramente è opinabile io ho avuto veramente uno ho fatto uno sforzo enorme per condensare una materia che capite essere di micidiale vi ringrazio e vi auguro in bocca al lupo grazie al dottore Simonetti devo dire la verità ha fatto chiarezza sul nuovo contratto i nostri dubbi sono aumentati le perplessità che avevamo ne abbiamo ancora di più grazie al dottore Simonetti io passerei subito la parola al dottor Giorgio Cavallero che è il segretario generale del Cosmet che ci parlerà della bozza della dirigenza una rigatuta sul sistema organizzativo pronto buongiorno a tutti grazie grazie di questo invito che è anche abbastanza anomalo per un sindacalista medico ma vi dico subito che la nostra confederazione relativamente giovane è una confederazione che raccoglie tutte le professionalità ed è presente su tutti i tavoli contrattuali delle quattro aree in maniera marginale nella scuola in maniera più significativa in quelle che sono le funzioni centrali le funzioni locali e la sanità devo anche dirvi che della Cosmet che ha circa 34.000 iscritti tra le varie associazioni fa parte e li ringrazio molto anche un'associazione che è l'associazione sindacale nazionale professioni sanitarie i cui fondatori sono Dario La Quintana di Milano Franco Pio di Genova Bruno Cavaliere di Genova Lorenzo Baragatti di Siena e Marcello Bozzi di Torino che sono una nostra delegazione trattante quindi partecipano come noi alle riunioni di Aram che riprendono il 4 di Luglio noi questo per dire come contrariamente a quanto si pensa organizzazioni sindacali multicategoriali hanno sì un senso e come diciamo che se andiamo a vedere l'articolo 39 della Costituzione dice che i sindacati sono un qualcosa che non è soltanto una libera associazione o un coagulato di interessi hanno personalità giuridica a differenza dei partiti in quanto dovrebbero concorrere a formare con i contratti di lavoro delle norme che sono norme primarie dovrebbero essere norme primarie cioè avere il valore di legge erga omnes e obbligatoriamente per tutti questo per questo mi permetto sempre di fare una fotocopia una slide con l'articolo 39 della Costituzione perché se non vogliamo diventare soltanto un'associazione di parte ma vogliamo rappresentare interessi generali dobbiamo confrontarci con tutti e confrontarci soprattutto con tutte le categorie che ci rappresentano questo perché questo contratto per noi è un po' diverso noi non abbiamo sottoscritto l'accordo del 30 novembre 2016 noi non avevamo una scadenza elettorale perché voi sapete che la dirigenza non vota per l'RSU cosa che è avvenuta quindi noi non avevamo delle scadenze immediate per questo siamo in ritardo non so se questo sia giovevole o di documento lo vedremo successivamente certamente il percorso è stato affrettato da due eventi che sono stati precedenti la sentenza della Corte Costituzionale e l'imminenza della scadenza elettorale per cui gli ultimi contratti scadevano il 30 dicembre del 2009 il comparto ha chiuso questo contratto mentre noi stiamo appena iniziando adesso non so se ci sono delle diapositive ah con il mouse avanti allora nel frattempo vorrevo solo inquadrarvi come sia stata divisa voi sapete che la Brunetta c'erano una volta otto contratti della dirigenza e la Brunetta ci ha obbligati a ridurli a 4 nel contratto vigente che è ancora il contratto del siglato nel 2010 c'erano due aree di interesse se vogliamo sanitario l'area terza definita STPA dove la S stava per i sanitari biologi chimici fisici farmacisti psicologi la P per avvocati ingegneri architetti geologi la T per analisti statistici sociologi c'era la dirigenza amministrativa e c'era la dirigenza delle professioni sanitarie la dirigenza delle professioni sanitarie peraltro in parte mutuava dalla dirigenza sanitaria in parte aveva dei tabellari simili alla dirigenza amministrativa e poi c'era la dirigenza medica veterinaria da un'altra parte con l'accordo quadro è stata fatta una profonda modifica del quadro vigente su questo molto ha lavorato la confederazione nostra per porre la dirigenza sanitaria da un lato mentre tutta la restanza di dirigenza dall'altra inizialmente erano tutti d'accordo le regioni comprese anzi era mutuata addirittura da un emendamento della conferenza di Stato Regioni poi hanno cambiato idea facendo addirittura degli emendamenti nell'ultima finanziaria perché gradivano che la dirigenza amministrativa fosse con noi fosse tutta insieme all'altra dirigenza dell'SSN in realtà il dibattito si è svolto nella distinzione tra una dirigenza sanitaria che come dice giustamente anche il relatore che mi ha preceduto è una dirigenza che trae la sua origine dalla 229 è una dirigenza prevalentemente professionale anche se non si esclude e non si rinuncia a quelle che sono le sue prerogative gestionali mentre invece la restante dirigenza amministrativa è una dirigenza di natura tradizionalmente pubblicistica che fa riferimento al 165 noi difendiamo questa questa divisione e crediamo che anche la dirigenza delle professioni sanitarie sia più a casa propria più coerente con quelle che sono le sue la sua formazione e la sua missione nell'ambito del mondo sanitario sarebbe stato anche possibile che una sua collocazione con la dirigenza gestionale e amministrativa sarebbe stato anche possibile è stato anche ipotizzato questo ma così non è quindi il contratto che adesso è vigente quindi attualmente nella contrattazione decentrata la dirigenza delle professioni sanitarie sta ancora nell'area terza della STPA ma dopo che sarà firmato il contratto nazionale tutti i contratti decentrati la dirigenza professionale sanitaria starà con i medici con gli altri sanitari in un apposito contratto assolutamente diverso questo può avere diverse ripercussioni certamente se la dirigenza delle professioni sanitarie stava in un'area numericamente più ristretta sono circa 25-26 mila i dipendenti molto meno sindacalizzati poteva avere più peso certamente stando in un'area come l'area medica che è forte di 134 mila unità numericamente è meno però può anche essere un vantaggio se si è da dare un'indenità di esclusività e questa viene ripartita su di una mazza più grande voi capite che diventa anche più semplice da un punto di vista direi grossolanamente monetario d'altronde la pancia esiste semmai è meglio averla piena piuttosto che negarla quindi anche il sindacato quando scende in questi particolari non va inteso come una banalizzazione della sua funzione più di tanto abbiamo perso 50 mila posti di lavoro dico abbiamo perso 50 mila posti di lavoro non proprio 47 mila è qualcosa e siamo al minimo storico al minimo storico da quando è nato il conto economico dello Stato cioè nel 2001 quindi da quando c'è un censimento attendibile questi sono i dipendenti del servizio sanitario nazionale vedete che rispetto al colore verde del 2009 cioè la massima espansione numerica del servizio sanitario nazionale 692 mila 219 dipendenti di ruolo siamo scesi a 647 mila 556 ci sono quello che c'è cioè 45 mila dipendenti in meno se andate a vedere siamo al minimo storico minimo storico non è mai stato di meno c'è un trend che continua a scendere poi è chiaro che qualcuno potrà farsi anche delle domande cioè eh ma questa non si legge comunque ve la leggo io sono calati un po' tutti sono calati un po' tutti sono calati sia i medici che gli infermieri un po' di più i medici che gli infermieri ma il problema non è quello il problema non è quello il problema non è di fare la statistica di chi ha perso di più e la verità è che abbiamo perso tutti che il taglio è stato un taglio lineare che ha colpito tutta la pubblica amministrazione che ha perso 300 mila posti di lavoro e noi eravamo eravamo il 18-19% di tutta la pubblica amministrazione e continuiamo questo trend quindi non è vero che sono stati fatti dei tagli selettivi sono stati fatti dei tagli lineari assolutamente orizzontali il che cosa sta maturando ma vi ho detto che siamo alla vigilia di questa stagione contrattuale in quel sistema anomalo che sono le nostre relazioni sindacali dove abbiamo un datore di lavoro che sono le regioni che è senza portafoglio nel senso che mutua i soldi dalla finanziaria quindi opera una sorta di mediazione di intermediazione e quindi tutto viaggio in parallelo tra il finanziamento del servizio sanitario nazionale avete visto tutti i dati di stamattina molto buoni questo è stato un convegno importante con delle relazioni di notevole valore che hanno messo in evidenza moltissimi aspetti e di cui veramente ho seguito tutto con attenzione e sono grato dell'invito e anche mi complimento con la qualità che non ha nulla da invidiare i convegni organizzati da altre categorie in particolare dai medici ve lo dico senza alcun complimento si tratta quindi di valutare questo iter questo iter che poi nel contratto del comparto ha generato qualcosa cosa che prima non si era mai visto cioè la decorrenza dell'ultima tranche degli aumenti di quei 85 euro è del primo di aprile primo aprile 2018 attenzione perché come mi spiega il nostro maestro che è Arturo Cerilli è stato un contabile direttore generale ha lavorato in Nara eccetera se questo può anche creare dei problemi nel senso che gli aumenti contrattuali del 2018 fino al 31 marzo sono l'1,09 e dal primo aprile sono il 3,48 noi ci auguriamo che questo non si riprecuota poi sul monte salari del 2018 perché altrimenti cioè che non si faccia poi la media tra i due valori e che si prenda quello del 2015 più il 3,48 perché se altrimenti facciamo poi la media regime questo 3,48 diventa poco più del 2 e questo non è cosa di poco conto vedo che il dottor Simonetti mi asseconda in questo ragionamento perché la norma non è scritta cioè partiamo da 100 saliamo del 3,48 che è la percentuale di aumento ma poi c'è un monte salari che dovrebbe fotografare il reale e questo differimento del regime da gennaio ad aprile può creare dei problemi non voglio buttare del sale sulla ferita ma di certo che se verrà calcolato in modo virtuale come mi assicura il presidente di Aram siamo a posto altrimenti c'è anche il rischio poi di dover pagare nel prossimo contratto una parte di quanto si è preso in questo e questo va scongiurato esistono anche problematiche di natura economica diversa che sono legate alla finanziaria anche a quei famosi 80 euro netti del cosiddetto bonus trenzi per chi sta in quella fase che se non riprodotto non integralmente vengono riassorbiti ma sostanzialmente quali sono i problemi che sono sul tappeto ecco c'è un problema di relazioni sindacali perché il legislatore in questi anni si è molto cimentato nel dire ciò che noi non dobbiamo fare ecco quindi i sindacati non devono fare questo 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 e quell'altro questo è stato l'elenco di numerosi interventi legislativi certamente noi rivedichiamo che sulle parti economiche di riportare in contrattazione ciò che è economico se non altro e di portare al confronto ciò che sta nell'organizzazione del lavoro con quel grosso problema che sono gli incarichi che sono sì organizzazioni del lavoro ma sono anche rapporto di lavoro sui quali cercheremo una via intermedia gli altri aspetti sono di ritrovare anche un minimo di centralità del servizio sanitario nazionale e quindi di vedere se è possibile trovare qualche innovazione cioè guardate che la sanità non è in crisi è il resto del mondo che è in crisi la sanità è il 13% del prodotto interno lordo la sanità è in espansione in tutto il mondo compresa l'Italia il problema è che si sono formate e qui entro un po' vado un po' fuori dal mio tema due medicine una redditizia che fa le prestazioni e scarica il malato una poco redditizia che prende in carico il malato nel suo complesso cioè c'è un privato creditato che cresce si arricchisce si espande che è una vera azienda e che invece si prende in carico il paziente che è fatalmente invecchia fatalmente si complica fatalmente è destinato a essere un soggetto poco redditizio non ambito dalle assicurazioni non ambito dagli erogatori di prestazioni non ambito perché è un soggetto che di per sé comporta porta con sé dei rischi non programmatili e che con l'aumento della vita media si moltiplicano allora ci sono andando venendo fuori due medicine noi perdiamo posti di lavoro ma il privato accreditato cresce vi do un altro dato che sulle 24 ore ha detto molto bene se facciamo l'import-export medici tra Italia e il resto d'Europa ci accordiamo che dal 2010 al 2016 c'è sono 6.000 medici che dall'Italia sono andati all'estero e 1.500 infermieri questa è la bilancia se vogliamo dei pagamenti in quei termini che poi dei 6.000 medici non è che sono andati via 6.000 ne sono andati via circa 10.000 ne sono arrivati 4.000 da altri paesi balcanici cioè questo per dire come le nostre professioni sono professioni richieste e sono professioni assolutamente adeguati a quelli che sono i bisogni di una società avanzata in cui la cura della persona è l'aspetto principale tant'è che nel rapporto dell'Ox che oggi sta molto bene è stato analizzato l'aspettativa di vita cos'è che determina la maggiore incremento dell'aspettativa di vita il finanziamento dei servizi pubblici e dopo quindi 35 mesi di vita in più è legato finanziamento dei servizi pubblici sono i dati dell'Ox recenti che sono stati citati più ancora che le abitudini più ancora che il reddito quindi il finanziamento del servizio pubblico è un elemento centrale su di un settore che non può essere compresso nella crisi generale della pubblica amministrazione perché questo è un settore richiesto in espansione e non è normale il livello di out of pocket che abbiamo in Italia non lo è vuoi perché non sono quei dati lì ma sono molto di più c'è un nero in Italia assai significativo vuoi perché non esistono ammortizzatori nel senso che non esistono quelle forme mutualistiche partecipative che attenuano questo questo fenomeno insomma c'è bisogno di sanità e questo i contratti dovrebbero dare un po' qualche incentivo in più soprattutto per se si vuole se si vuole riportare la centralità del servizio sanitario nazionale ma guardate che quando c'erano le compartecipazioni le liste d'attesa non esistevano nel senso che si modulava l'orario di lavoro alle esigenze che c'erano cioè si poteva modulare la produzione e la retribuzione in funzione delle esigenze ma guardate che il fatto che noi subiamo come si diceva prima un modello burocratico amministrativo senza riconoscere un'autonomia ad una professione che lo è costituisce un problema costituisce un problema importante cioè la spesa complessiva sanitaria è la spesa pubblica che sia ridotta in termini di percentuale del prodotto interno non la spesa sanitaria che avanza in tutto il mondo ed è avanza in maniera lineare con l'incremento dell'aspettativa di vita e non può essere diversamente perché non ci sono soldi spesi meglio che quelli spesi per la cura della persona assolutamente sì però questa crisi del servizio pubblico rischia di far perdere la centralità del servizio pubblico rischia che in alcuni branchi specialisti che i concorsi vadano deserti perché gli specialisti preferiscono allocarsi in strutture private e soprattutto ripeto se noi non finiamo con questa storia cioè premiamo le prestazioni a prescindere dal contesto non torniamo a valorizzare il paziente come entità unitaria e a privilegiare quote capitali rispetto ad un DRgismo esasperato che porta a scoprire la prestazione dalla cura della persona noi andiamo a rischiare molto cosa possiamo dire di questo contratto abbiamo un calendario molto stretto speriamo di farlo quest'autunno abbiamo visto le regioni l'altro giorno il quale anche loro tutto sommato credono che sia opportuno chiudere un contratto di lavoro prima della prossima finanziaria non fosse altro per poter presentare il conto a chi bene o male li dovrà finanziare c'è una certa disponibilità a fare un contratto che non affronterà tutte le problematiche questo non è possibile non è possibile non è possibile per tutta una serie di incertezze che ci sono ricordiamoci che i nostri datori di lavoro sono le regioni sono fortemente indebitati non hanno una una disponibilità per prestazioni aggiuntive ma quello che noi pensiamo sia centrale è di premiare il disagio e il disagio vuole anche dire che ci deve essere un limite anche per fare certe cose un limite di età per fare le guardie si vuol dire sicurezza delle cure vuol dire investire nella non manomettere non manomettere la normativa europea sull'orario di lavoro ma non per nostra esclusiva curiosità per sicurezza del paziente abbiamo un corpo medico che ha avuto il merito a differenza di altre categorie di sapersi programmare di sapersi programmare ma oggi abbiamo un corpo medico che è ancora che è la parte più vecchia del servizio sanitario nazionale e prevediamo nei prossimi cinque anni di avere anche 30.000 medici in meno certamente questo potrà anche ampliare le possibilità categoriali anche se io consiglio sempre a chi vuole diciamo surrogare i medici di non farlo gratis perché tutto sommato non conviene cioè fermo restando che non c'è dubbio che la riduzione numerica dei medici darà spazio ad altre categorie come è giusto che sia questo è quanto vorremmo dire ma il messaggio è un messaggio di provare ad andare avanti uniti come abbiamo fatto anche in alcune scadenze legislative come la legge Gelli che riguarda tutti come la legge sulle professioni sanitarie che riguarda tutti qui c'è stata anche molto collaborazione da parte della federazione che allora si chiamava I PASVI e oggi si chiama giustamente in modo diverso non c'è non si può vincere se non insieme grazie a tutti buona giornata bene grazie e d'ora proseguendo andiamo a presentare Marilella D'Innocenzo direttore generale che farà una disamina su quali sono le ripercussioni viste da un direttore generale all'interno di un'azienda sanitaria le riflessioni come direttore generale che vive quotidianamente la sua esperienza all'interno dell'ASL di Rieti grazie intanto grazie alla Presidenta al Comitato Centrale per e a tutti quanti per questo invito veramente gradito e che intanto che cosa dire difficile alla fine di un dibattito di una presentazione di contenuti così veramente interessanti cercare di fare un po' anche la sintesi tra quella che stamattina chiamavano necessità di saturazione del perimetro fino alla proposta di direzione della produzione del governo collegiale e allora oggi che noi direttori generali dobbiamo comunque governare le aziende insieme con voi insieme con i professionisti come facciamo a fare i conti con tutte le contraddizioni anche evidenziate e con gli ossimori in qualche modo organizzativo contrattuali che sono stati rappresentati io penso che noi dobbiamo applicare questo contratto e che compito dei direttori generali fare in modo che i lavoratori seppur nelle contraddizioni e nei limiti che sono stati evidenziati possano cogliere invece le opportunità e lo dico perché il contratto è un contratto che non riguarda solo gli infermieri riguarda altre professioni alcune diciamo categorie ma che per gli infermieri deve diventare un punto di non ritorno su alcune questioni lo dico perché in qualche modo sono uno di quei direttori generali che stamattina venivano citati come anche l'espressione di alcune competenze specifiche sul mondo dell'assistenza e quindi che in qualche modo devono sapere interpretare la parte più innovativa e più di opportunità per la professione infermieristica quindi il mandato che mi era stato dato era quello di illustrare le ricadute organizzative ora io cercherò di andare veloce uno perché c'è un problema di tempi per tutti noi che abbiamo i treni e quindi non voglio quindi scusate se andrò anche abbastanza veloce su alcune cose ma però volevo anche sottolineare alcuni aspetti richiamati peraltro dal professor Lega relativamente a che tipo di aziende noi oggi abbiamo stamattina il collega Alberti diceva le mega aziende beh c'è stato uno studio fatto anche nell'ultimo rapporto Oasi ma non solo anche in quello precedente dove veniva illustrato la progressiva evoluzione e trasformazione del servizio sanitario nazionale che è rappresentato proprio da alcuni processi di evoluzione e di trasformazione sia dei servizi sanitari regionali che delle aziende sanitarie diciamo questo che vedete è in qualche modo un processo evolutivo che ha rappresentato il professor Lega in maniera molto più sintetica esaustiva rispetto invece ad alcune variabili che è andato ad analizzare cercherò di andare veloce sulle cose che sono già trattate ma non posso esimermi da rappresentare come le aziende stanno cambiando come sono diverse ma come stanno cambiando anche i sistemi sanitari regionali rispetto ad alcune funzioni che oggi la parte diciamo il disegno istituzionale esprime cioè alcune configurazioni che hanno visto le regioni la trasformazione delle regioni come regioni capogruppo sono in qualche modo nate e sono state dettate da necessità legate ad una serie di aspetti che potete vedere e che hanno in una come dire logica di sistema cercato di dare una risposta unitaria ad alcune necessità che venivano richiamate anche oggi hanno però affrontato quello che prima il rappresentante di Cosmed diceva anche la riduzione progressiva per esempio delle strutture anche rivedendo nei fatti con una nuova articolazione organizzativa un nuovo assetto organizzativo e l'applicazione del DM70 per esempio la configurazione del numero delle strutture rivedendo quindi sottolineando in alcuni casi non tutti possiamo dire di essere d'accordo la ridondanza la sovrapposizione la duplicazione di strutture per arrivare ad una come dire centralizzazione per esempio i laboratori unici o le aggregazioni per area di intensità di cura questo è servito anche a riorientare i servizi verso filiere integrate di offerta pensate per esempio le case della salute gli ospedali di comunità e la lonte che era insomma questo l'ha già fatto vedere il professor Lega io l'ho ripreso esattamente dal rapporto Oasi questa però è la situazione che c'è un quadro che in qualche modo rappresenta una diminuzione delle aziende una composizione delle aziende totalmente diverse mega aziende metropolitane o aziende che coprono un'intera regione con aziende che invece hanno mantenuto alcune caratteristiche originarie come dire vado avanti rispetto alle tipologie di capogruppo regionali alle funzioni perché ne abbiamo già parlato quello che mi interessa dire è che oggi le regioni rispetto alle aziende attraverso la funzione di capogruppo agiscono in autonomia e definiscono la struttura le funzioni le capacità erogative delle aziende svolgendo oggi una funzione di holding questo diciamo sono i layout delle aziende e i trend di trasformazione cioè verso che cosa stiamo andando stiamo andando verso le regioni che stanno avvocando a loro attraverso una serie di trasformazioni addirittura la possibilità di definire una funzione di direzione direzionale dove le aziende sono solo di produzione inoltre molte regioni hanno avuto questa diciamo anche possibilità di creare strutture sovraziendali e interaziendali come le centrali di acquisto le funzioni di governo su alcune aree di pianificazione funzioni di coordinamento dei servizi ora sono stati ridotti il ruolo e la missione delle aziende e questo è incontrovertibile cioè questo aspetto va sottolineato ci sono a secondo del quadro di distribuzione regionale posso avere un po' d'acqua e dicevo queste trasformazioni hanno aumentato gli spazi dell'autonomia regionale riducendo quelle delle aziende le mega aziende hanno di fatto aumentato la distanza ecco perché stamattina veniva richiamato la funzione della dirigenza intermedia e soprattutto le linee operative in questo momento se non corriamo a come dire a guidare alcuni processi di fatto rimangono molto lontane dal vertice strategico questa è la realtà oggi le funzioni della dirigenza intermedia diventano molto più ampie su alcune attività che sono trasversali che vanno dal controllo dei processi dall'altro però la letteratura ci dice che questa mania di iperaggregazione non sempre sta facendo i conti con quello che molti chiamano come dire le sperimentazioni senza l'apprendimento perché noi stiamo andando avanti con le sperimentazioni ma poi tutto questo non viene in qualche modo recepito e interiorizzato queste hanno le dimensioni le dimensioni delle aziende hanno richiesto un governo della complessità rilevante l'abbiamo già visto io penso che dobbiamo andare avanti abbiamo bisogno di fare cosa di intanto avere risorse per fare gli investimenti capacità di guidare per guidare il cambiamento organizzativo quindi è chiaro che vanno sviluppate nuove forme di governo dei processi perché se no non riusciamo ad avere il coordinamento di alcuni servizi ed è chiaro anche che dobbiamo investire su attività che sono profondamente di governo dei processi e quindi nuovi modelli di relazioni perché le mega aziende hanno bisogno di rivedere il concetto di rapporto col tessuto sociale con gli stakeholder hanno necessità di definire sistemi di accountability per forza per rendere conto pensate ad un'azienda come quella della Roma 1 o della Roma 2 che è la fusione di aziende enormi che hanno due milioni e mezzo di popolazione di riferimento e in questa logica sono stati rivisti gli assetti organizzativi e sono stati già riviste le articolazioni del sistema delle responsabilità nelle diverse filiere di erogazione delle cure perché già oggi abbiamo fatto investimenti sui ruoli e sulle competenze chiave strategiche come quella infermieristica non stiamo partendo da zero e io come dire in maniera molto orgogliosa e Barbara lo sa perché ci siamo sentite io penso che siccome conoscevo questa professione quando non c'aveva la legge 42 e poi tutto quello avvenire dico che alcune punti di non ritorno sono stati già segnati e sono di non ritorno e sono importanti per le aziende non per i professionisti infermieri sono importanti e strategiche per le aziende e perché solo con questo noi riusciamo a veramente a orientare il cambiamento e a guidare la cultura organizzativa di queste aziende diverse con fattori e variabili completamente come dire legate ad una complessità che va governata e quindi per rendere questa come dire complessità sostenibile dobbiamo in qualche modo avere una capacità di risposta ai problemi gli scenari di sviluppo strategico delle aziende come vedete si devono inevitabilmente spostare tenendo conto dei bisogni di salute a cui dobbiamo dare risposte alle funzioni necessarie che servono per dare queste risposte e ai modelli organizzativi in cui queste risposte in termini di competenze di professionalità chiave devono essere inserite pensate a per esempio tutta l'area delle cure primarie a quelle distrettuali che hanno come dire opportunità enorme di utilizzo di professionalità specifiche e allora se noi immaginiamo una configurazione organizzativa dell'azienda che come potete vedere spazia all'interno di un modello che stamattina il professor Brusaferro ha come dire brillantemente rappresentato anche evidenziando in alcuni aspetti come vedete la la responsabilità oggi non domani oggi concretamente di garantire questi processi di garantire queste aree noi lo dobbiamo affrontare con gli strumenti che abbiamo cercando di utilizzarli al massimo delle loro opportunità e quindi dobbiamo trovare questi strumenti che in sé tengano conto del cambiamento della mission che deve essere riorientata qualcuno la chiama produzione io dico sul governo delle reti di offerta e sulla funzione di produzione e derogazione dei servizi a fronte di una tendenza consolidata che dobbiamo prendere come atto come dato di fatto scusate di spostamento verso funzioni regionali che stanno cambiando e che è inutile che non ne teniamo conto e allora se vogliamo immaginare come possiamo pensare ad uno sviluppo all'interno di un'azienda dobbiamo pensare che le strutture dell'azienda devono avere un'attenzione particolare all'efficienza della gestione operativa devono avere modelli organizzativi coerenti pensate per esempio a come noi in questo momento stiamo facendo le scelte verso le aree per intensità di cura dove abbiamo le posizioni organizzative che svolgono un ruolo fondamentale la tutta i processi legati stamattina si diceva e PDTA noi abbiamo i case manager che tranquillamente oggi gestiscono migliaia di pazienti e li mettono nel percorso e anche per esempio l'unità di degenza infermieristica o l'assistenza domiciliare attraverso le centrali operative che gli infermieri possono tranquillamente perché già lo fanno coordinare e anche dirigere in una differenziazione delle complessità che adesso vedremo e quindi scusate la parte legata invece alle competenze che è quella come vedete legata allo sviluppo di carriera seppur con tutte quelle diciamo difficoltà che potremmo avere e che il dottor Simonetti ha egregiamente rappresentato però noi abbiamo la necessità di accompagnare e sostenere questo cambiamento organizzativo e dobbiamo investire sull'unico capitale che abbiamo che è il capitale professionale fare in modo che diciamo gli staff quelli che abbiamo e le dirigenze intermedie abbiano come dire funzioni sul governo e dei processi trasversali perché questi diventano sempre più ampi in mega aziende dobbiamo qualificare i professionisti perché devono essere pronti per operare in condizioni di cambiamento organizzativo perché li dobbiamo preparare al cambiamento organizzativo non possiamo pensare che cala dall'alto e noi non abbiamo utilizzato gli strumenti che abbiamo per poter guidare il cambiamento bisogna che si passi dall'idea che l'informatizzazione è una cosa solo legata alla telemedicina quindi tutti gli strumenti di siti noi dobbiamo invece legarli alla personalizzazione delle cure e quindi iniziare a pensare quando si parlava di competenze di attitudini beh io sono un direttore generale che utilizza moltissimo le competenze che devo dire nell'informatica hanno più gli infermieri che altre professioni perché attraverso di loro per esempio sono riuscita a fare tutto il lavoro in diversi modi mi ricordo nel 2006 a Torino c'è qui un coordinatore delle sale operatorie che già allora veniva come consulente e che in qualche modo aveva iniziato un processo come dire di innovazione tecnologica organizzativa lo stesso adesso stiamo facendo con un altro vostro collega e quindi le condizioni ci sono però valorizziamole quindi io riprendo le aziende riprendo il concetto di stamattina allora qualcuno parlava fa bisogno monoprofessionale fa bisogno complessivo secondo me bisogna cambiare proprio concettualmente l'approccio c'è bisogno di fare un salto di qualità e il salto di qualità lo dobbiamo fare tenendo conto profondamente di quello che serve ai cittadini non dobbiamo assolutamente partire da quello che serve alle professioni cioè noi dobbiamo partire assolutamente da quelli che sono i bisogni dei pazienti delle persone e su quello che l'azienda deve loro offrire cioè sulla capacità dell'azienda in termini organizzativi di dare risposte per poterli soddisfare quindi bisogna passare dal fabbisogno monoprofessionale sicuramente con una logica di sistema e di valorizzazione ad un fabbisogno di skill mix che guardate non è un problema di change verso la contendibilità perché voglio essere chiara qui il problema è avere la capacità collettiva insieme di dare risposte senza pesare l'uno più dell'altro ma rispetto al ruolo profondo e alle competenze che ognuno deve mettere in campo per dare risposte competenti e appropriate tenendo conto che cosa però delle tecnologie chi le sa chi le sa usare le usa e le aziende devono investire su tutti ma se poi ce ne sono alcuni che sono più bravi di altri bisogna che noi prendiamo atto che sono competenze su cui abbiamo investito e che vanno valorizzate è impensabile che nella tecnologia sull'assistenza domiciliare io ho i tablet e non vengono utilizzati oppure abbiamo altre cose e non vengono utilizzate sicuramente tenendo conto delle competenze distintive e trasversali nessuno vuole come dire superare il perimetro peraltro abbiamo il problema di saturare il perimetro di uno cercheremo di mantenere saldo il perimetro dell'altro magari cercando di saturarlo però capacità di utilizzo di strumenti operativi cioè l'aspetto metodologico su cui gli infermieri sono formati è un elemento sostanziale perché la capacità di progettazione e la capacità di contenuti di natura metodologica con cui alla fine del corso triennale e oggi ho ascoltato con molto interesse la Luisa Saiani beh noi abbiamo investito molto come sistema non come professioni come sistema per dare contenuti scientifico disciplinari degli infermieri la metodologia quindi la capacità di progettare gli strumenti operativi e loro lo fanno sono in grado e allora noi che dobbiamo dare risposta ne dobbiamo tener conto ma non contrapponendo categorie ma invece mettendo in una fase di valorizzazione il sapere la competenza per esempio le competenze sulla risoluzione dei problemi io non posso pensare che i problemi poi sono sempre di qualcun altro e quindi ci vogliono anche le soluzioni e poi bisogna tradurre la soluzione in organizzazione in capacità organizzativa e allora realizziamo i percorsi formativi che servono per lo sviluppo organizzativo cerchiamo di avere una governance orientata veramente ai processi agli obiettivi ai risultati e bisogna dirlo ma non perché stiamo qui nella sede degli infermieri perché la risorsa o è strategica e lo si dice applicando la vera valorizzazione nelle aziende o se no è una delle tante parole che si dicono e allora entriamo nel vivo di quello che era un po' il mandato e mi scuso se sono stata lunga come lo traduciamo organizzativamente questo contratto intanto come avete visto lo diceva prima il rappresentante di Cosmet se noi a fronte di una serie di criticità che abbiamo rilevato e anche di alcune come dire contraddizioni e a ragione Simonetti sbagli anche sbagli proprio come dire grammaticali oggi si parla molto di grammatica oggi su Repubblica qualcuno diceva che c'è un problema intanto di grammatica minima delle istituzioni questa invece è grammatica un po' più legata invece alla traduzione di non essere superficiali quando si va a fare i contratti e allora c'è un bisogno per le aziende di un ruolo forte della contrattazione di centrata allora io dico sempre una cosa e non lo dico oggi perché faccio il direttore generale al 2006 e penso che poi dopo questo mandato basta e la basta perché perché ci vuole un ricambio generazionale e allora il confronto deve essere costruttivo tra l'azienda e le parti perché questo se sono forti dei contenuti e della capacità di valorizzazione i sindacati le aziende sono più forti e viceversa abbiamo bisogno a livello locale di competenze nella contrattazione e bisogna che anche i sindacati investano nella formazione di chi oggi può rappresentare i contenuti quelle opportunità che ci sono nel contratto io ritengo e lo dico senza problemi che la rilevanza strategica dell'articolo 12 oltre al fatto del diciamo dell'articolo 22 quella parte delle norme transitorie a cui faceva riferimento che è altrettanto importante lì si gioca la partita lì va presidiato proprio io non lo leggo per motivi di economia di tempo perché stiamo passando da un sistema basato sulle categorie su tutta la roba di prima se ce la si fa a rendere forte e come dire pieno di sapere anche organizzativo di traduzione ad un sistema di riconoscimento economico in correlazione alla valutazione delle competenze e bla 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 allora bisogna cogliere le opportunità perché non è perché io sono entusiasta lo sanno tutti ma perché oggettivamente noi questa roba la dobbiamo applicare e allora dobbiamo cogliere le opportunità dobbiamo cogliere quello che fa andare avanti le aziende i professionisti che nelle aziende operano nell'interesse dei cittadini e allora dobbiamo rendere cioè dobbiamo cogliere le opportunità perché qui dentro ci stanno tutti anche quelli che non hanno fatto nemmeno la formazione ma che hanno solo l'esperienza almeno per noi direttori generali che siamo direttori generali di tutti le competenze perfezionate frutto dell'esperienza le competenze esperte frutto dell'esperienza e di studi specifici le competenze specialistiche frutto di esperienza di laurea magistrale o di master di primo o di secondo livello poi vedremo come queste cose andranno in qualche modo in questa commissione che è strategica definite e presidiate da tutti perché l'assetto organizzativo deve assicurare appropriatezza assistenziale ed evitare però un ritorno al passato cioè avere una congrua graduazione che non riporti nella contrattazione integrativa al come dire al vizio di distribuire a pioggia o per esempio a come dire ha un desiderio recondito di legarsi a criteri storici non correlabili alle competenze ed esperienze possedute sto parlando evidentemente solo dell'anzianità allora punti di forza punti di debolezza velocemente valorizzazione l'hanno già vista e non ci non ci dedico molto tempo limiti io ritengo da direttore generale che è stata però un'occasione mancata per valorizzare per esempio il lavoro svolto nelle degenze di area medica nel pronto soccorso se è fatta una scelta ancora una volta legata solo ad alcuni settori e non seppur le risorse sono poche l'indennità che continua ad essere solo e si può recuperare tutto questo solo fatta su alcuni settori di fatto non valorizza quello che fanno gli infermieri nelle medicine nelle chirurgie e non si tiene conto della complessità che viene gestita e affrontata quotidianamente o il rischio e il livello di stress del pronto soccorso dei settori di emergenza e allora dobbiamo fare in modo che gli effetti di perequazione non siano solo sul livello economico ma che il livello economico possa in qualche modo servire per riconoscere e valorizzare un'attività svolta e le competenze possedute e quindi dobbiamo stare attenti come vi dicevo al rischio di appiattimento della contrattazione abbiamo bisogno di contrattazioni forti cioè di controparti che discutono si confrontano trovano soluzioni ma che conoscono rispettivamente il terreno di quel confronto perché se no come vedete tutti assolutamente frustrati allora questo contratto può sebbene applicato assicurare vantaggi all'organizzazione aziendale la ricaduta è positiva posso dirlo? la ricaduta di questo contratto può avere delle grosse opportunità flessibilità maggiore flessibilità che non vuol dire negazione dei diritti né vuol dire mobilità selvaggia cioè è una la flessibilità in base al contesto organizzativo alle necessità assistenziali io sto sperimentando e faccio una digressione e non c'ho qui l'orario faccio una digressione perché le funzioni di prossimità sono funzioni che noi oggi non abbiamo mai in qualche modo definito dico noi come aziende e voi anche come professionisti perché oggi ne parlavo prima con la vostra presidente molte aziende stanno cambiando anche la modalità per esempio di interloquire con le comunità locali con i comuni partecipiamo nei piani di zona facciamo i piani territoriali dobbiamo dare risposte per esempio noi nella zona dove oggi si sta patendo il risultato del terremoto che è la mia azienda dove c'è Amatrice Accumoli o altre realtà Antrodoco e altri posti abbiamo stiamo utilizzando l'equipe itineranti a gestione a direzione di coordinamento infermieristico e sono infermieri ostetriche assistenti sociali e fisioterapisti e allora l'ambulatorio infermieristico deve avere un suo percorso un suo riconoscimento però attenzione attenzione alla progettazione di percorsi di adeguata collocazione sul problema delle inidoneità della parte legata a non possiamo pensare che si possa avere la mentalità da erode e li buttiamo dobbiamo essere rispettosi e anche attenti al personale con disagio e difficoltà ma le aziende devono progettare queste diciamo queste condizioni di limitazione temporanea e come dire e anche totale sulla base che cosa di un confronto con i DVR e con proposte anche nel confronto tra le parti di collocazione fuori ruolo o comunque di uscita più efficienza e appropriatezza questa è un'opportunità che questo contratto ci dà perché lo possiamo legare ai setting assistenziali di cui vi ho parlato prima maggiore valorizzazione a coloro i quali hanno un elevato senso di appartenenza all'azienda e che quindi hanno raggiunto risultati e che sono stati un investimento che diventano un investimento per l'azienda con una graduazione sia verticale che orizzontale puntando come dire a quei criteri di engagement di affidabilità di accountability di cui vi parlavo ma scusate noi parliamo delle aziende affidabili un'azienda è misurata nella sua affidabilità sul livello delle competenze che ha l'organizzazione fa ciò che dice che farà sul livello delle esperienze maturate l'organizzazione è matura per affrontare la complessità le variabili in gioco di cui oggi parlava il professor Lega è come dire in grado sui valori è misurata sui valori che ha e che trasmette sull'aderenza di questi valori all'azienda stessa alla pratica di ogni giorno i professionisti credono nell'organizzazione dell'azienda e allora da qui l'importanza della valutazione perché oggi nessuno ha parlato sì nessuno ha parlato di valutazione attenzione le competenze ce l'hanno i valutatori e allora facciamo in modo che per non diventare uno strumento di potere fanno formazione specifica e creiamo gli strumenti oggettivi questa è la proposta applicativa che vi faccio ed è una proposta di ricaduta organizzativa tra sviluppo verticale con incarico organizzativo e sviluppo orizzontale con incarico professionale dentro l'azienda che vi ho rappresentato con i diversi setting assistenziali come vedete non c'è una vabbè posso usare il mouse come vedete qui ci sono le graduazioni dei diversi incarichi di organizzazione a sviluppo verticale e qui ci sono con tutto quello che significa anche applicazione sulla parte che riguarda i requisiti e le competenze qui c'è l'infermiere esperto che ha la faccina gialla e in tutte le aree dove noi oggi già possiamo utilizzarlo e poi c'è l'infermiere specialista dove lo possiamo utilizzare dove diventa una come dire un luogo di sviluppo e di utilizzazione delle sue competenze specialistiche come vedete l'infermiere esperto e l'infermiere specialista fa riferimento ad alcune condizioni che coniugano la sua attività nelle aree organizzative di riferimento poi potete vedere nel dettaglio quali sono perché rimangono tanto le diapositive a disposizione della federazione e invece quello che ha bisogno il specialista per poter operare in questa diciamo rappresentazione dello sviluppo organizzativo dell'azienda e di dove vengono erogate le prestazioni e si fa la presa in carico un modello di sviluppo di incarico organizzativo nel comparto che come vedete tiene conto di quello che prevede il contratto e di come da appena assunto alla possibilità con una serie di elementi criteri e requisiti per fare uno sviluppo tra virgolette cosiddetto verticale e invece un modello di sviluppo di incarico professionale che come vedete è legato alla differenziazione in base alle competenze possedute e in base ad alcune caratteristiche e dove queste si possono trovare collocazione con una valorizzazione vera pensate per esempio agli esperti e agli specialisti che possono sia andare in quell'area come dire di master ma anche per esempio agli esperti che possono e sono gli infermieri che lo fanno già da anni esperti negli accessi vascolari nel case management nella gestione delle infezioni nella gestione del dolore che è diverso dall'aver fatto un master per esempio sulle cure palliative contratto della dirigenza e vado verso le conclusioni secondo me è molto positivo che si sia passati come diceva il medico che mi ha preceduta la presenza nell'area della dirigenza abbiamo già detto hanno già detto alcune cose il ridisegno delle carriere secondo un modello di utilizzo delle risorse che deve essere legato all'innovazione organizzativa e legislativa è d'obbligo ci sono punti di forza sì molti la presenza degli strumenti di valorizzazione anche lì c'è una rivisitazione delle carriere e di valorizzazione professionale e il nuovo assetto della dirigenza tra funzione gestionale e funzione professionale chiaramente attraverso sempre la parte diciamo delle strutture c'è da tener conto di questa caratteristica che nessuno però ha sottolineato forse Simonetti non me lo ricordo che adesso è definito dove arriva da un punto di vista la valorizzazione economica l'incarico di alta specializzazione prima era un po' più discrezionale diciamo così da parte delle aziende e allora l'impatto è di questo tipo la funzione gestionale viene riconfermata nell'incardinamento in strutture semplici dipartimentali e dipartimento questo è il modello di sviluppo come potete vedere con un sviluppo di incarico professionale con una valorizzazione economica che noi possiamo fare se progettiamo a condizioni attuali che cosa significa per esempio una unità operativa complessa di assistenza infermieristica alla persona e poi con le unità operative gli incarichi professionali come potete vedere che sono dirigenziali sono una realtà e le aziende li possono utilizzare questi sono tutti gli incarichi professionali che potremmo assegnare con lo stesso meccanismo che diceva prima anche Simonetti e il Cosmed e allora per esempio questo è un esempio di un atto aziendale che ho fatto di sviluppo come vedete degli incarichi professionali a cui adesso di incarichi di struttura a cui adesso possiamo anche legare quelli professionali e poi dulcis in fundo c'è il problema di quelli che qualcuno dice ampliamento contendibilità o qualcun altro dice task shifting nel senso che siccome non ci sono più i medici si nominano gli infermieri non è così non è così e non può essere così non può essere un discorso categoriale cioè di perimetri che non come dire che si vanno a non saturare o a saturare che quindi da un punto di vista economico siccome non ci sono le risorse per poterli assumere no noi dobbiamo fare le cose che servono perché rispondono ai bisogni dei pazienti e allora lo sviluppo anche nella logica che in qualche modo diceva lega è uno sviluppo su competenze trasversali è un upgrading legato alle competenze manageriali ma anche competenze diversificate non soltanto cioè la logistica non sta dentro solo la managerialità non so come esprimerlo velocemente quindi ci sono tante possibilità oggi io ho fatto il concorso per direttore di distretto multidisciplinare l'unità operativa complessa di direzione e sviluppo strategico multidisciplinare così come multidisciplinare può essere la formazione però come può essere invece un incarico di struttura semplice o di professionale la formazione specifica questioni risolte quello dell'indennità lo do per superato grazie al fatto che in qualche modo è stata riconosciuta che anche lì non si può fare questo ragionamento perché sono pochi e ci sono poche risorse perché se no facciamo la risorsa cioè è sempre l'approccio a riserva indiana io penso che bisogna farlo perché un dirigente sanitario se lavora per il servizio sanitario nazionale e non fa l'estramenia e non può optare per l'estramenia perché perché se lo fa e riconosciamo anche l'intramenia oltre leghiamo l'aspetto dell'esclusività alla libera professione è un ragionamento secondo me che va fatto non sono i tempi per farlo adesso ma che deve in qualche modo ridisegnare questo sistema perché oggi va ridisegnato e allora il problema dei fondi io sono per un fondo unico perché questo consente di fare di superare tanti aspetti lo dicevamo prima mentre parlavamo con col collega di Cosmed e però dobbiamo fare in modo che se non si dovesse trovare una soluzione una posizione come dire tra virgolette di travaso di solidarietà va trovata non si può iniziare da zero o su bilancio aziendale solo quello perché secondo me non avrebbe senso è utile ancora utile però dopo questa l'ho fatta oggi mentre ascoltavo visto le diciamo le brillanti relazioni contenuti che ci sono stati io dire questo è ancora utile e coerente che a questo punto siamo tutti dirigenti professionisti dirigenti e ancora l'articolazione organizzativa che prevede gli incardinamenti dipartimenti strutture complesse strutture semplici come si fa con contenitori virtuali come il dipartimento come si coniugano con un'organizzazione che vogliamo flessibile integrata immateriale con lo skill make change che cosa è più utile alla sanità pubblica oggi io penso che queste sono riflessioni che dobbiamo fare però non dobbiamo perdere l'opportunità di poter applicare il contratto le aziende lo possono applicare e lo possono fare da subito grazie grazie Marinella Innocenzo per la sua visione a dir poco ottimistica sull'applicazione del contratto ma è giusto che sia così ovvero vedere anche le cose positive che questo contratto può offrire all'interno di un'azienda e detto da un direttore generale sicuramente è positivo ora passiamo la parola e cominciamo ad analizzare un altro aspetto riguardo l'applicazione del contratto quello di come vede un contratto un direttore delle professioni sanitari ma soprattutto cosa mettere cosa si può mettere all'interno di quella cassetta degli attrezzi nell'applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro lascio la parola al dottor Dario Laquintana che è il direttore di unità operativa complessa delle direzioni delle professioni sanitarie nella fondazione IRCS dell'ospedale Maggiore Policlinico di Milano grazie grazie alla presidente per avermi invitato al comitato centrale per avermi dato questo grande onore io pensavo ci fosse meno gente a quest'ora in realtà ho fatto anche per questo mi perdoneranno gli astanti una presentazione magari inizialmente un po' meno ordinaria un po' più vivace per ravvivare anche l'attenzione dopo una giornata così impegnativa e così intensa allora qual è la visione di un dirigente delle professioni sanitarie iniziamo dall'inizio nel contratto mancano due firme è un argomento che oggi non è emerso due firme di due sindacati due sindacati di categoria è un problema può esserlo sicuramente è un approccio diverso un problema nelle trattative aziendali perché i sindacati non firmatari non hanno diritto ad essere convocati al tavolo sono comunque presenti in forza all'interno dell'RSU questo crea un problema di relazioni e di rapporti perché diciamo così non avere un'RSU armonica non diventa semplice non è un gioco nemmeno per chi sta dall'altra parte del tavolo e quindi dobbiamo abituarci fin d'ora ad avere relazioni sindacali diciamo così estremamente vivaci con posizioni diverse prese dall'RSU magari anche a conclusione degli accordi perché magari alcuni dei componenti non firmatari del contratto sono comunque presenti all'interno dell'RSU e partecipano comunque giustamente alle trattative e questo potrebbe diciamo così non creare un clima disteso di relazioni e rapporti all'interno dell'azienda che invece è fondamentale quando si raggiungono accordi l'effetto Madia l'effetto Madia è quello che noi tecnicamente chiamiamo di sedazione moderata profonda della riforma Brunetta come diceva prima il dottor Simonetti Brunetta che dice con la Madia siamo andati indietro di 10 anni di buono c'è che noi non ci siamo mossi perché era 10 anni che non avevamo il contratto quindi tutto rimasto fermo siamo rimasti tranquilli non è cambiato molto non si parla di concertazione si parla di partecipazione e quindi diciamo che la desidenza è anche rimasta la stessa a parte le battute sicuramente noi dobbiamo cambiare prospettiva atteggiamento i 10 anni trascorsi erano gli anni in cui anche dalle direzioni venivano date chiare indicazioni rispetto a una rigidità nel rispetto dei ruoli si riapre una stagione di confronto di dialogo che può essere anche costruttivo nel reciproco rispetto dei ruoli anche perché paradossalmente molti delle organizzazioni sindacali sono appartenenti agli stessi profili infermieristici quindi è anche più semplice magari riuscire a trovare dei temi d'accordo io il tema delle risorse lo tocco e lo tocco perché è un tema che è stato importante che è stato sollevato anche dalla Presidente della Federazione dico grazie a Marcello Bozzi per queste tre diapositive che mi ha gentilmente concesso in cui si fa l'analisi della variazione delle indennità accessorie presenti nel contratto quando il dottor Simonetti era all'Ara ne trattava e oggi non è cambiato niente anche da questo punto vedete che sono rimasti praticamente immobili i valori economici è cambiato un po' il costo della vita è cambiato un po' il costo della vita non soltanto per quanto riguarda i gelati i gelati sono tra i prezzi che dal questo in realtà è uno studio pubblicato è un lavoro tratto da un libro che analizza l'evoluzione del costo della vita dall'ingresso nell'euro a 2014 noi dovremmo aggiungere 5 anni prima 4 anni dopo quindi dovremmo aggiungere altri 10 anni sulle modifiche del costo della vita che però rende bene l'idea di come si siano modificati il potere d'acquisto chiaramente in modo peggiorativo rispetto a una sostanziale blocco delle retribuzioni perché le retribuzioni in particolare la valorizzazione delle indennità è ferma ma anche quella delle retribuzioni è ferma dal 2009 quindi noi scontiamo 10 anni di blocco delle retribuzioni tabellari quindi che hanno portato a una sostanziale riduzione del potere d'acquisto l'aumento medio dei famosi 86 euro che è vero è stato paradossalmente un successo rispetto al quadro economico complessivo delle risorse disponibili che è stato però reso addirittura in alcuni casi peggiorativo negli suoi effetti dall'elemento perequativo perché se voi vedete le differenze del range di tabellare tra un A0 e un D6 sommando analizzando solo la differenziazione tabellare trovate 40 euro con l'elemento perequativo che è quella famosa quota che serve a riassorbire gli 80 euro dati dal governo di Frenzi con la finanziaria del 2014 operazione intelligentissima al posto di fare un contratto ha dato lui 80 euro il costo era lo stesso però la gente ha ringraziato lui con le elezioni europee e adesso devono essere riassorbiti vedete che il tabellare tra la A0 e il D6 diventa di S6 diventa di 14 euro per quest'anno quindi è quello che tra l'altro è stato utilizzato anche in un modo un po' a volte strumentale rispetto al tema dei soldi e risorse che non c'erano le risorse che sono stanziate con il PCM del 2016 18 aprile del 27 febbraio 2017 in modo più sostanziale per 1,4 miliardi a cui si è giunto un rinforzino da parte delle regioni a febbraio di quest'anno di 360 miliardi di milioni di euro allora il problema è dove erano gli infermieri perché non è che i soldi arrivano se nessuno li chiede se qualcuno li chiede i soldi arrivano se noi siamo 450 mila quando il presidente della federazione dice che noi siamo 450 mila e dobbiamo essere valorizzati ma poi dietro si volta e non c'è nessuno noi non andiamo da nessuna parte allora o acquisiamo una maggiore consapevolezza sociale e professionale oppure noi non possiamo pensare di piangere quando i voi sono scappati è tempo perso è tempo perso presidente che è uscita la professione c'era è uscita ha posto il problema delle risorse per il contratto che non c'erano ed è stata anche attaccata da Cigela e Cisegui dicendo insomma la presidente assume posizioni irrituali e invece ha fatto il suo lavoro ha difeso la professione e io di questo la ringrazio quali effetti avremo allora gli effetti sono quelli che abbiamo avuto al momento dell'applicazione dell'euro c'era in quel momento un problema di recupero economico rispetto a una perdita improvvisa avremo più o meno la stessa cosa visto che il contratto nazionale non è riuscito a dare le risorse che la gente si aspettava e quindi in sede aziendale avremo naturalmente la richiesta di almeno una fascia per tutti almeno una distribuzione a pioggia delle indennità per la valorizzazione professionale in particolare per il risultato con un abbassamento del livello massimo di tra virgolette premialità del fondino che è stato istituito dal contratto e un aumento delle richieste dell'incremento delle reperibilità in alcuni casi questo contratto innova perché rende possibile incrementare alcune reperibilità però vedremo che se facciamo questo non abbiamo più i soldi come diceva prima il dottor Simonetti per fare gli incarichi allora questo era il disegno della federazione noi non dobbiamo inventarci niente dobbiamo soprattutto cercare di ricollocare la nostra attenzione su quello che abbiamo fatto non è che dico che noi siamo sempre avanti di cinque anni però diciamo così che da questo punto di vista la vision della federazione è stata utile e può trovare una collocazione negli attuali assetti contrattuali ricordate questo schema lo schema del lavoro sulla valutazione delle competenze sulla prospettiva sulle competenze fatte dalla federazione nazionale allora i PASLI ora i FNOPI che prevedeva appunto l'asse della gestione l'asse della clinica che adesso abbiamo con gli incarichi organizzativi e gli incarichi professionali con diversi livelli l'infermiere generalista perfezionamento clinico con dei corsi regionali o dei corsi di perfezionamento esperto clinico con master infermiere specialista clinico con laurea magistrale sull'asse della invece organizzazione dirigente con la laurea magistrale che attualmente nella logica degli incarichi ha un incarico organizzativo complesso l'infermiere controordinatore con master che ha l'incarico di coordinamento cosa cambia cambia che c'è una dipendenza gerarchica tra ti ha incarichi organizzativi rispetto a quelli professionali la federazione invece non l'aveva prevista e per il resto però c'è tutto scusate mancava una cosa ecco manca infermiere specialista clinico con laurea magistrale questo è un è un pallino tra virgolette da riempire però su questo vedremo che il problema è anche che la formazione non è pronta nel senso che la laurea magistrale è ancora un assetto lo dicevamo stamattina prevalentemente organizzativo e didattico non clinico io aprirei invece un dibattito sulle specializzazioni rispetto a l'offerta formativa successiva alla laurea magistrale perché questo credo che sia un tema che dovremmo aprire anche qui vedete lo schema su come poteva essere collocato l'evoluzione delle competenze con le caselle che si riempiono l'esperto e lo specialista il coordinamento con l'incarico complesso le posizioni organizzative diventano incarichi funzionali e per la laurea magistrale forse ci sarà spazio nel prossimo contratto per l'aspetto clinico ma rispetto su questo ancora dei dubbi in realtà qualcosa rispetto anche alla dipendenza da infermiere perfezionato e i master con chi aveva l'incarico organizzativo la federazione l'aveva previsto avevamo previsto appunto anche l'infermiere specialista clinico dirigente professionale di area però vedremo che magari alla fine legandoci a questo un ragionamento su le dinamiche che portano a creare i posti per dirigenti e a renderli fruibili e possibili nelle aziende dovremmo farlo qualcuno dice ma i master clinici non ci sono alcune cose sono simili a quelle che ha citato sei anni stamattina in realtà c'è un lei non è una signora non l'ha citato c'è un monografico di assistenza infermieristica ricerca fatto nel 2016 tutto sulle competenze proprio partendo dal lavoro della federazione che vorrebbe la pena di rispulciare perché lì una serie di ragionamenti erano già stati fatti l'analisi dei master per esempio che tipo di master ci sono vedete che la preponderanza sono i master clinici quindi c'è spazio per riconoscere gli incarichi professionali esperti perché ci sono già colleghi che hanno questi tipi di master se mettiamo in fila i master da un'indagine fatta appunto nel 2015 nel 2016 come diceva 6500 infermieri iscritti l'anno scorso al concorso che hanno fatto la preselezione la metà di questi chiedeva l'area critica moltissimi con il master il criterio all'interno della mia azienda per assegnare gli infermieri all'area critica è il possesso del master in area critica master in coordinamento e altri master metodologici in realtà alcuni di questi potrebbero essere resi nuovamente fungibili e utili come per esempio il master forense in bioetica in realtà soprattutto per gli effetti per esempio della legge Gelli vediamo invece come la magistrale clinica è un passo ancora da compiere questo è uno studio fatto su gli studenti della magistrale in sette anni si spostano tutti verso l'organizzazione la formazione ed escono dalla clinica quindi là dobbiamo riempire di competenze là dobbiamo riempire riempire probabilmente anche di conoscenze e di ricerca queste sono invece le competenze specialistiche attivate nelle aziende un lavoro di Chiari Paolo Chiari e altri molte aziende hanno problemi simili attivano competenze specialistiche hanno già attivato competenze specialistiche queste realisticamente saranno le competenze che per prime tra virgolette saranno trasformate in incarichi professionali semplici e complessi ci sono molti temi che sono assolutamente noti a tutti vunker gestione stomie case management bad management accessi venosi picche eccetera eccetera ce ne sono alcuni che potrebbero essere sviluppati primary nursing per esempio perché è difficile nell'organizzazione ancorandosi invece ai modelli organizzativi pensare di dire a un infermiere esperto bravo competente esci fuori dai turni di fare primary e quando lui ti dice ma sai io così perdo però 200 euro al mese tu non sai cosa di rispondergli da questo punto di vista l'assegnazione di incarichi professionali potrebbe essere uno strumento che ci consente almeno di compensare la perdita economica in un contratto il nostro che è ancora molto legato all'indennità e poco invece ad altri tipi di riconoscimento in particolare sulla paga base questa è una piccola appunto analisi fatta insieme ai miei responsabili departimentari e poi ci sono delle aree per esempio come l'emergenza urgenza territoriale ne parlava prima ma ne era di docenzo che potrebbero essere individuati in alcuni casi come per particolari dipendenti come particolari professionisti come incarichi professionali avanzati penso per esempio quelli che hanno un'elevata assunzione di responsabilità è diverso uscire con l'auto medica insieme a un medico dall'uscire con l'auto infermieristica assumersi direttamente in prima persona delle responsabilità avanzate oppure l'ecmo i trappianti settori estremamente specifici le ombre non è stato risolto il tema del coordinamento per gli incarichi per i titolari di laurea magistrale il paradosso rimane chi ha un master di coordinamento può fare il coordinamento chi ha una laurea magistrale può fare dirigente delle professioni sanitarie ma non può fare il coordinatore questo dovrà è un problema che resta da risolvere dovrà essere risolto verosimilmente con delle architetture particolari con gli incarichi funzionali prevedendo per alcuni cari funzionali il requisito della laurea magistrale anche se saranno magari dei coordinamenti ampli è vero che la situazione ormai così diffusa rispetto alle aziende per cui noi abbiamo situazioni con unità operative con 20 posti letto una sola specialità unità operative con 55 posti letto 4-5 specialità insieme non è pensabile di pesarle allo stesso modo le attività professionali i corsi riconosciuti per il professionista esperto qua si apre uno scenario nelle trattative aziendali perché il rischio è quello che non definendo muri a livello nazionale si aprano un po' le gabbie rispetto alla partecipazione a corsi a volte costruiti ad hoc per riuscire a dare incarichi professionali questa è una cosa che dovremmo monitorare con estrema attenzione temporalizzazione degli incarichi è stato detto prima da 3 a 5 anni massimo 10 anni perché è giusto perché questa è la logica della variabilità a me va benissimo però che sia per tutti perché è l'unico gruppo professionale per cui questa regola vale non vale neanche per i dirigenti di struttura complessa i dirigenti di struttura complessa dopo 5 anni vengono rinnovati con valutazione positiva senza termine se deve essere così che sia per tutti oppure rivediamo anche questo criterio come si sostituiscono i coordinatori che cessano fino al nuovo piano degli incarichi perché il contratto dice che tutti gli incarichi sono fermi fino al nuovo piano e quindi bisognerà inventarsi qualcosa perché la gente continua a cessare ad andare in pensione a vivere a cambiare lavoro e questo è un problema perché non possiamo pensare di lasciare alcune aree senza guida perché dobbiamo finire l'integrativo si danno le supplenze ai primari penso che sia giusto darle anche a chi ha un incarico funzionale di coordinamento compenso per il lavoro straordinario risorbito negli incarichi con indennità superiore a 3.227 euro lo prevede il contratto non è previsto nemmeno per la dirigenza anche per la dirigenza si prevede il pagamento almeno delle guardie come straordinario l'articolo 22 prevede e questa è la norma transitoria a cui faceva prima riferimento anche il dottor Simonetti che tutti i incarichi decadano al momento dell'assegnazione dei nuovi incarichi di funzione nuovi cosa vuol dire? cosa succede che è un incarico in questo momento che viene banalmente traslato all'interno della determina che tutto viene rimesso a bando all'interno dell'azienda è una delle cose da presidiare a cui pare attenzione ricordiamoci che per i propri amministrativi tecnico-professionali l'unico vincolo per l'accesso agli incarichi organizzativi sono i 5 anni di esperienza nel profilo di iscrizione ove esistente agli albi noi abbiamo bisogno dei master dei corsi di perfezionamento delle lauree magistrali per valorizzarli loro hanno bisogno di 5 anni ricordiamocene poi quando facciamo gli accordi aziendali e definiamo gli atti aziendali perché è giusto che ci sia un equo accesso tra virgolette degli operatori non è che noi abbiamo sempre bisogno di dimostrare di essere in assoluto più intelligenti degli altri e gli altri intelligenti nascono il problema del sistema di classificazione è superato resta da discutere c'è questa commissione che doveva concludere i lavori entro luglio io non so onestamente se si è insediata lo spero resta un problema peccato perché il ministero della funzione pubblica è appena uscito con le linee guida per la definizione dei nuovi piani triennali per le assunzioni quindi poteva essere questa la sede per chiudere il cerchio rispetto al tema collocando subito le giuste figure con i giusti nuovi le giuste etichette nel piano triennale per le assunzioni vuol dire che dovremo lavorarci un po' di più c'era però un'urgenza di individuazione di due profili questo era fondamentale non poteva aspettare niente il settore comunicazione e il settore informazione permettetemi una piccola nota polemica io avevo un direttore generale che mi ha insegnato che i fondi del servizio sanitario nazionale devono essere spesi per pagare le prestazioni sanitarie agli utenti e non gli avvocati e io direi neanche giornalisti perché la loro ricaduta poi in termini di salute è tutta da dimostrare altri problemi l'area socio-sanitaria l'area socio-sanitaria per me è un problema nel senso che io mi preoccupo e mi preoccupo tanto quando vedo IOS dire che la giornata dell'OS è la giornata di nascita di Florence Nightingale allora tre anni fa ce la volevano rubare gli igienisti perché hanno detto Florence Nightingale è roba nostra adesso ci sono IOS attenzione non facciamocela rubare perché questo è patrimonio identità culturale nostra questa è roba nostra però se a fianco al letto del malato ci restano solo IOS e noi siamo dietro il carrello della teravia al computer signori miei abbiamo perso un'occasione per dimostrare quello che gli infermieri sono e fanno non è quello il nostro posto riunioni di reparto e formazione obbligatoria fuori dal 66 2003 luci e ombre è vero che è una deroga al 66 è vero che io adesso avevo gli infermieri che non timbravano per venire alle riunioni in reparto e quindi questo era un problema oggettivamente o non poteva più partecipare ai corsi di aggiornamento e questo diventava un problema periodo di prova per i dipendenti operatori in categoria B ha detto prima la pausa mensa per i turnisti perché ci sono alcune interpretazioni rispetto a un contratto che ha dei problemi di scrittura oggettiva lo diceva prima il dottor Simonetti che sono tutti da sistemare vedere e affrontare di vieto di reperività per alcuni profili per esempio i riabilitatori perché la riabilitazione è una terapia io ho i trapianti di polmone ho la fibrosicistica non sempre li ho ricoverati ma perché non lasciamo queste cose alle organizzazioni decentrate e invece dobbiamo mettere delle regole nazionali per tutti cosa manca? La libera professione studio i pass via in papi 12,6 milioni di cittadini hanno ricorso a prestazioni erogate in libera professione per una valutazione complessiva di 6,2 miliardi di euro la metà di questi pagati in nero a persone dipendenti dal servizio sanitario nazionale perché sono le riconosciute le più competenti per risolvere i loro problemi di salute questo è un problema è un'occasione persa un'occasione mancata poteva essere un'occasione per dare dignità alle professioni sanitari riconoscendole a tutto il punto perché se io sono una professione sanitaria lo sono anche perché posso erogare prestazioni in libera professione fare emergere il nero e togliere tanti colleghi dall'illegalità ma soprattutto dare la possibilità ai cittadini di scegliere la libertà di scelta vale ma non sempre meccanismo smotico per la creazione dei fondi della dirigenza delle professioni sanitarie tra comparto e dirigenza allora se noi non riusciamo a creare un meccanismo per rendere disponibili i fondi per costituire dei posti della dirigente delle professioni sanitarie nei contratti aziendali tutti i posti che abbiamo nei piani organizzativi strategici o chiamateli voi come volete non saranno mai fruibili e noi resteremo solo una testimonianza professionale ci sono mille dirigenti media 2 per ogni azienda da qui non andiamo avanti o riusciamo a creare un meccanismo smotico tra i fondi come quello che c'era che prevedeva che le posizioni organizzative che venivano dismesse perché trasformate in posti da dirigenti traslavano il loro fondo all'area della dirigenza o individuiamo altri metodi tipo il fondo unico ma i medici non vogliono perché dicono sempre chiaramente i miei amici della Cimo signori miei se volete i soldi a partire dall'esclusività ad arrivare al resto fateli dare dal governo noi non riusciremo mai ad essere niente di più che una testimonianza non saremo mai vera classe dirigente l'equo compenso il riassorbimento delle cooperative io penso che sia un imperativo morale per chi fa il dirigente delle professioni sanitari uscire dal ghetto delle cooperative i colleghi riassorbire nel servizio sanitario nazionale le cooperative sono entrate nel servizio sanitario nazionale negli anni 2000 quando c'era una grave crisi economica e di professionisti adesso questa crisi non c'è più oggi c'erano 6500 persone garbagnate a fare il concorso da infermiere e quindi far lavorare per colleghi a 8, 9, 10 euro l'ora penso che sia inaccettabile per qualsiasi persona un'area autonoma contrattuale un'area autonoma contrattuale è quello che ci piacerebbe tanto avere perché ormai le professioni sanitarie la professione infermieristica particolare è particolarmente numerosa importante significativa all'interno delle aziende gli istituti contrattuali a volte cozzano con quelli di altre professioni quando vengono tra virgolette ingabbiate nel contesto di altre professioni l'area quadri io penso che manca all'interno del contratto una reale valorizzazione dell'area quadri dirigenti professioni sanitarie posizioni organizzative o meglio incarichi funzionali anche da un punto di vista economico qualcuno ha detto che sono gli unici premiati in realtà i 9.200 euro delle vecchie posizioni organizzative se sommati ai 3.227 euro dei vecchi coordinamenti danno 12.524 euro io ricordo che la nuova indennità di posizione massima è di 12.000 euro quindi non è neanche vero non è vero che probabilmente nessuno accumulava in questo modo e quindi si è semplicemente semplificato ma è falso dire che loro sono cresciuti no se fossero stati parificati alle indennità di posizioni organizzative per esempio prevedenti nel contratto degli enti locali dove arrivano fino a 18.000 euro allora sì cosa c'è? questo contratto è importante io sono stato accordissimo con tutti quelli che sono intervenuti e doveva essere firmato perché un vecchio amico sindacalista che purtroppo non c'è più mi ha insegnato che i soldi ai lavoratori si danno quegli accordi e quindi all'accordo bisogna arrivare era fondamentale anche se i soldi sono pochi l'abbiamo già detto ma non ci sarebbero stati nemmeno questi soprattutto è importante perché si è ridata una cornice organizzativa e legislativa che dopo dieci anni era importante dare perché c'era molta confusione tra l'applicazione di istituti contrattuali insieme ad istituti legislativi a volte contrapposti molti aspetti positivi tipo l'estensione di alcuni istituti contrattuali dipendenti a tempo indeterminato in formato di riconoscimento di tempo vestizione adesso dovremmo arrivare a quello della consegna permessi retribuiti welfare aziendale unione civile cessione solidale delle ferie e la certezza dei tempi che in teoria dovrebbe esserci 30 giorni dalla piattaforma e 45 più 45 giorni di trattativa vedremo se saranno rispettati anche io ho pensato alla dichiarazione congiunta numero 5 come diceva prima il dottor Simonetti perché i contratti sono frutto di un accordo che tiene conto delle risorse economiche che sono disponibili al momento e che se vengono poi sottratte o non sono più disponibili è un problema perché mancano pure quelle tutti avremmo voluto fare qualcosa di diverso probabilmente ma la sintesi delle possibilità è questo e adesso la cassetta degli attrezzi la prima cosa da mettere nella cassetta degli attrezzi è la cassetta nel senso che è importamentale averla oggi scadeva il termine per la composizione della delegazione trattante di parte pubblica non tutti l'hanno costituita non tutti i dirigenti delle professioni sanitarie sono presenti nelle delegazioni trattanti invece è importante ci siano e possibilmente anche in quelle della dirigenza perché è importante vedere l'applicazione che a volte è dicotomica dei diversi assetti contrattuali attenzione all'individuazione presente della delegazione trattante di parte pubblica ma questa è una cosa molto tecnica non dipende da noi però io ho avuto direttori generali a cui ho chiesto di venire in trattativa ho avuto direttori generali a cui ho chiesto di star fuori dalla trattativa perché a volte creavano dei problemi predisporre un piano per incarichi organizzativi e professionali è fondamentale sapere dove vogliamo arrivare adesso non al primo gennaio del 2019 perché alla presentazione del piano decadono tutti gli incarichi questo vuol dire che per esempio i colleghi che non avevano la FD non hanno preso il master erano in quell'interregno in cui potevano essere conferite gli incarichi con il nuovo piano degli incarichi scompaiono o vengono recuperati come incarichi professionali esperti oppure perdete dei professionisti che invece magari hanno maturato delle competenze importanti nel corso del tempo attenzione alla costruzione di criteri per gli incarichi professionali di primo livello e equitata sanitario e amministrativi nella distribuzione delle risorse attenzione ai fondi contrattuali studiateveli bene perché il meccanismo dei fondi contrattuali è questo da 3 diventano 2 lo straordinario e il disagio coordinamenti e posizioni e exposizioni organizzative a cui si aggiungeranno dal 1 gennaio 2019 speriamo questo tesoretto dei 91 euro fascia risultato welfare da un'altra parte con un trasferimento annuale anche io ho fatto l'esercizio del dottor Simonetti uguale io però sono stato più buono perché ha detto questo non ha dato i soldi il contratto gli do io l'aumento alle turni di reperibilità perché pagarle ancora 20 euro è veramente una vergogna ho scoperto che solo aumentare da 20 a 30 euro quindi del 50% non del 200% di quello che ha aumentato il cono gelato del 50% costa 100.000 euro quasi se io li uso per quello non li uso più per altro e se io non non li ho più non posso più fare gli incarichi professionali tanto che il paradosso è quello che arriveremo noi a dire quello che hanno detto fino all'altro giorno i amici sindacalisti bisogna ridurre lo straordinario per avere i soldi per fare gli incarichi professionali valorizzazione e premialità allora il trasferimento dei fondi è su base annuale c'è un premio per la prestazione individuale è una differenziazione del premio della prestazione individuale che dà almeno il 30% di più valore medio bisogna capire cosa rimarrà sulla produttività collettiva perché la mia percezione è che ci sarà una tendenza a spostare tutto verso le fasce quindi si svuoterà il fondo per la parte riguardante la produttività collettiva il contratto prevede che la parte prevalente degli incarichi contrattuali debba essere orientata al premio della produzione e questa è una cosa che bisognerà vedere come concretizziamo poi sarebbe bello iniziare anche noi a progettare delle iniziative di welfare aziendali per non essere sempre quelli che danno indicazioni cattivi della situazione ma a pensare un po' alle persone che lavorano con noi riuscire a costruire dei modelli sostenibili che coniughino le esigenze familiari con quelle organizzative in una popolazione che soprattutto è fatta appunto di professionisti di sesso femminile che devono coniugare carichi di lavoro familiari con quelli aziendali conclusioni è necessario iniziare a mettere la testa sul nuovo contratto e pensare dove applicarlo cercare di arrivare prima dei tempi con un piano ben preciso perché come noi voi sapete dovremmo pensare anche al contratto prossimo ma soprattutto noi abbiamo due scale contrattuali una all'interno dell'azienda e poi con le organizzazioni sanitarie e con le organizzazioni sindacali sarebbe importante interessante io penso sia utile lo diceva stamattina a sei anni non c'è una produzione da parte dei dirigenti di documenti di posizione è vero noi i dirigenti che si occupano di organizzazioni si incontrano poco parlano poco producono poco da un punto di vista scientifico e di position statement questo è un problema noi invece abbiamo l'esigenza di definire di più probabilmente almeno a livello territoriale provinciale regionale io spero che da questo punto di vista anche il comitato infermieri di dirigenti possa muoversi facendosi elemento propulsivo e promotore di incontro noi in regione Lombardia abbiamo iniziato a creare un gruppo di lavoro su questo per provare a confrontarci sui modelli di applicazione del contratto evitare il fenomeno delle fughe in avanti aziendali perché se inizia il discorso per cui in quell'azienda l'hanno dato lo dovete dare dappertutto siamo finiti e non avremo più soldi per fare neanche un incarico professionale quindi sarebbe bello definire delle linee guida regionali con il contributo dei dirigenti delle professioni sanitarie anche perché di solito in questi tavoli i dirigenti delle professioni sanitarie mancano PS una nota sola sul contratto della dirigenza prima che sia troppo tardi e questo è il momento per chiedere i soldi per il rinnovo del contratto della dirigenza e questo è il momento per muoversi non si può fare lo stesso errore che è stato fatto sul comparto per poi lamentarsi c'è un problema di definizione dei fondi contrattuali delle modalità di incremento l'ho detto prima c'è un problema dell'indennità di esclusiva l'indennità di esclusiva costa a spanne 5 milioni di euro su base nazionale sono tanti sono pochi sono risorse da trovare e da chiedere però non è neanche possibile essere dirigenti sanitari in tutto anche nei concorsi per la struttura complessa infatti secondo la Balduzzi e poi al momento dell'erogazione dello stipendio tornare a essere la specie di dirigenti amministrativi io dico che rimanere nel contratto della dirigenza amministrativa sarebbe stata una cosa contro natura c'è un problema di rappresentanza anche per questo diceva prima il dottor Cavallaro è nata l'associazione nazionale dirigente delle professioni sanitarie che è affiliata a Cosmed vedo l'amico Marcello in sala con cui ci siamo buttati in questa esperienza che però è tutta da costruire da nascere da ramificare a livello territoriale e a cui vi invito a partecipare perché il problema della rappresentanza è importante anche per i dirigenti perché se no al tavolo siamo soli grazie buona continuazione grazie al dottor La Quintana siamo in perfetto orario penso che se in sala c'è qualche domanda prima che il dottore Simonetti scappa via sicuramente ci sarà qualche domanda per lui approfittiamone adesso domande chiarito tutti i dubbi allora la faccio io una piccola replica quando mi riferivo prego prego quando mi riferivo alle elezioni non erano quelle dell'RSU era il referendum istituzionale fatto quattro giorni prima del protocollo del 30 novembre ed erano le elezioni politiche del 4 marzo fatte una settimana prima della firma del contratto per essere chiari perché l'RSU non c'entrava niente l'RSU ha un altro contesto erano le due regalie le due marchette elettorali che hanno portato a un testo raffazzonato allora ben venga il vostro contratto se necessita di sei mesi facciamolo bene facciamolo scritto a modo piuttosto di un contratto in cui ci sono ancora delle cose appunto il CERT o gli operatori professionali insomma tra l'altro poi scusate se dico questo ci sono delle cose nel contratto quella della parte dell'ordinamento professionale in cui si dice le parti necessitano di un'istruttoria io nel libro che ho promozionato ho scritto sette anni avete avuto per fare stiamo ancora stiamo ancora a pensare cosa deve fare l'ostra nella vita stiamo ancora a pensare che cosa sono le aree prestazionali sette anni di nulla e hanno firmato il contratto in una settimana perché si doveva firmare il contratto questa è una cosa vergognosa sì sì sono d'accordo ma io non mi riferivo mica a quello che aveva detto lei quella roba lì l'ho detta io la confermo c'è stato c'erano delle scadenze che si intersecavano sappiamo tutti e sappiamo anche come è finita assolutamente sì ma di parte sindacale ha avuto anche un peso la scadenza imminente dell'RSEU di qualche settimana dopo ma per chi non ha firmato non per chi ha firmato per tutti per tutti perché tutto sommato sono rimasti contenti di quel contratto perché la novità è che c'era un contratto e però cioè da un punto di vista quantitativo ha giovato l'affluenza che non è stata scarsa secondo me sì come siamo fuori dalle questioni sindacali vorremmo rimanere in questo contesto intanto prima di passare la parola alla Presidente voi avete visto che alla decima conferenza nazionale qual è stato l'argomento l'infermieristica nella salute nella politica nell'organizzazione la sfida che ci aspetta Presidente io penso che i 450.000 colleghi infermieri sono pronti a raccogliere questa sfida ma intanto è stata una giornata intensa io l'ho seguita a tutte ringrazio i colleghi che si sono fermati fino ad ora ma ringrazio soprattutto i relatori che sia nella mattinata che nel pomeriggio ci hanno accompagnato in questo percorso per noi era una scommessa provare a incrociare una riflessione fatta dai tecnici parlo del dottor Simonetti che ringrazio del dottor Cavallero che ringrazio con una riflessione fatta su chi poi questo contratto lo deve applicare ringrazio il direttore generale dottoressa Marinela Di Nocenzo ringrazio il collega direttore delle professioni Dario La Quintana è stata una scommessa perché ci siamo detti proviamo un po' a capire un contratto è firmato l'altro sembrava partito con un po' più di velocità può essere un po' fermato ma come chi ha la responsabilità di dirigere un'azienda lo traduce nei termini concreti il direttore generale di Nocenzo ci ha fatto ben vedere che ha le idee chiare sia sulla dirigenza che sul comparto il collega Dario La Quintana anche lui ci ha fatto vedere che ha le idee chiare soprattutto trovo importante quello che lui ha detto che dobbiamo evitare che la nostra dirigenza qui mi rivolgo al dottor Cavallero visto che Andprosan che ha questa nuova entità è affiliata a Cosmed e quindi si siederà al tavolo dobbiamo evitare che la nostra dirigenza cari colleghi resti come diceva Dario La Quintana una testimonianza ma dobbiamo fare in modo che si possa creare e costruire una classe dirigente sia sullo sviluppo gestionale sia sullo sviluppo professionale affiancato a questo dobbiamo far crescere la compagine professionale sia sullo sviluppo delle specializzazioni abbiamo avuto modo di parlarne perché poi queste specializzazioni dobbiamo anche costruire percorso perché poi possono arrivare alla dirigenza saremo pochi dentro una dirigenza ma noi sgomiteremo e ci creeremo il nostro non la riserva indiana questo è importante questo è importante non la riserva indiana ma dobbiamo trovare la collocazione ma abbiamo bisogno di trovare la collocazione anche per i nostri infermieri specializzati speriamo presto oggi specialisti dobbiamo a mio avviso oggi è stato sfumato il dottor Simonetti l'ha tracciato quando ho parlato un po' delle problematiche complessive dobbiamo un attimo riprendere in mano tutta la questione degli incarichi gestionali e parlo degli incarichi di coordinamento e degli incarichi di posizione organizzativa perché oggettivamente questi sono stati forse tra gli elementi più penalizzanti della corsa ma insomma credo che questo possa essere tenuto condivisibile da tutti questi sugli aspetti pragmatici operativi sugli aspetti rispetto all'obiettivo che ci eravamo dati che era quello di aprire un tema anche rischiando di mettere allo scoperto i nostri punti deboli e i nostri punti di criticità ma riteniamo di avere complessivamente insomma rispetto a questa giornata di aver almeno messo in prospettiva le analisi di studio con la nostra università con i nostri dirigenti con la parte organizzativa direttore generale di questa mattina direttore generale di questo pomeriggio quindi con tutti gli interlocutori che sono in qualche modo coinvolti rispetto allo sviluppo della nostra professione abbiamo riteniamo di aver messo come dire almeno tracciato anche noi un perimetro dentro il quale continuare a lavorare e a dibattere non avevamo certo l'ambizione di avere delle risposte avevamo però l'ambizione di condividere con tutti voi la complessità del momento e il fatto che le problematiche nuove vanno affrontate con schemi mentali nuovi sia che parliamo del tema delle specializzazioni cliniche sia che parliamo del tema dello sviluppo della nostra carriera gestionale organizzativa sia che parliamo di che cosa abbiamo di fronte per i bisogni dei cittadini da qua dieci anni perché immagino che i tre direttori generali vi hanno ben rappresentato e tutte e tre hanno fatto un'analisi molto lucida che non è solo il qui e ora ma in tutte e tre le relazioni abbiamo chiaramente percepito come sta cambiando il sistema sanitario e il sistema organizzativo da qua a pochi anni e allora come dire continuare a mutuare a ragionare a dibattere di degli attuali modelli organizzativi io dico solo che gli attuali modelli organizzativi gli attuali profili di responsabilità hanno portato alla situazione che noi abbiamo oggi nelle nostre aziende forse conviene ragionare di modelli innovativi di modelli un po' più aderenti ai bisogni di salute di modelli un po' più aderenti allo sviluppo complessivo di tutto il sistema delle professioni e allora in questa logica abbiamo bisogno di percorrere la strada con chi vorrà condividerla con noi riteniamo di avere degli alleati importanti ma perché gli alleati non sono rispetto alla visibilità di una professione piuttosto che di un'altra o di un ruolo istituzionale piuttosto che di un altro ma sono rispetto da un lato alla sostenibilità del sistema dall'altro anche rispetto a come intendiamo che contributo intendiamo dare per il nostro sistema per il nostro paese per il nostro sistema salute anche rispetto a quello che la professione infermeristica in questi ultimi 10 12 15 anni ha costruito e ha messo nel proprio zaino non tanto per se stessa quanto proprio per il sistema paese e per il sistema salute e quindi questo lo lo raccogliamo da questa interessante giornata di oggi e lo capitilizzeremo nella nostra cabina di regia come spiegheremo meglio domani i presidenti provinciali nel consiglio nazionale e negli osservatori che stiamo facendo partire che prenderanno ognuno pezzi delle riflessioni di oggi e le ricondurremo dentro percorsi da costruire dal punto di vista legislativo normativo istituzionale organizzativo e professionale quindi di cui daremo ovviamente notizia e coinvolgeremo i nostri stakeholder e i nostri compagni di viaggio con cui oggi abbiamo camminato assieme io ringrazio quindi ancora una volta veramente tutti i relatori della mattina del pomeriggio ringrazio voi che siete rimasti fino a quest'ora anche se comunque siamo in orario rispetto al tema allora insomma al tempo massimo che ci eravamo dati forse c'è stato poco tempo per il dibattito pomeriggio però intanto vi ricordo che tutte le slide saranno disponibili sul portale Fnopi appena le abbiamo risistemate c'è stata comunque anche la diretta streaming che ritroverete anche questa sul portale e quindi avrete modo anche di riapprofondire eventualmente insomma con i nostri relatori e con noi bene se non ci sono altre cose io saluto prego sì già no buon rientro a tutti allora grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti